Arrivato, arrivato Ok, vai Dominio Dominio Allora, ho fatto una classe col mirino e una classe senza Ma cos'è, a livello 4 lo sblocchi la modifica e copiaggiamento? Sì, sì, sai No, a livello 3 l'ho sblocchata, no? A livello 3? 3 o 4, non mi ricordo Sì, è stato sempre il quelli, so Che vacca Ho visto Ren al Divina, che cazzo è il Divina? Ren mi conosce meglio ma segue entrambi da troppo, grande bro Io ne ho 42, beato te Eh vabbè adesso Ma dimmi un po' sti cazzo di impostazioni che hai messo Eh, anche a me va Allora Controller Vai Nella prima schermata controller, sotto le sensibilità andate giù fino a gioco Modalità mirino, tieni premuto Scatto automatico, scatto tattico automatico Funzionalità equipaggiamento, tieni premuto Attivazione, posizionamento arma, modalità mirino Funzionalità interagisci, ricarica, premi per ricaricare Poi passate su avanzate dall'altra parte Ok E tutta la funzionalità movimento dove c'è scritto scavalcamento a terra, metti no Scavalcamento automatico in aria, no Scavalcamento a terra, automatico, no Via Scavalcamento Devi mettere tutto no quello Scavalcamento a terra, no? Tutto no, scavalcamento tutto no Ok, sta, eh, inversione fondamentale, tuffo standard, no, no Ok Anche scambio levette di modalità, quelle invece scambio levette in modalità mirino Te l'ho detto? No, non te l'ho detto a quanto pare Ma stai calmo perché Uno contro uno Funzionalità interruzione modalità mirino Questo potrebbe essere Scambio levette, no Funzionalità interruzione modalità mirino Che cazzo vuol dire? Decidi se riattivare la modalità mirino dopo che è stata interrotta da altre azioni di combattimento Ma cosa che volevo dire? Che cosa hai messo? Eh, sto pensando Mi prendi è meglio Hai visto, Giorno? Grazie del like Sto ancora ridendo No, raga, devo guardarmi un altro video di qualcuno Eh, ma anch'io Ma lo side cancel invece si può mettere? Non è che lo puoi mettere, devi imparare a farlo Ah, ecco, scusami Scusami Non mi prometto più di dire certe cose Per se hai ragione, scusami Salute Boh, a posto Io dovrei essere a posto Boh Andiamo un po' innanzitutto È tutto a posto Ok Niente, non trovo proprio un cazzo di niente Grazie, è pure stra pieno di giocatori Non capisco come faccio A non trovare nessuno Allora, a posto Ho rinominato tutte le mie classi Non ce capisco niente Non ce capisco niente 2 Non ce capisco niente 3 Intanto si blocca Ma va bene, così Buonasera Ciao Giuse Prince Dennis Micael Stato Stavo facendo le robe Presse in chi Chi chiedeva Chi fosse Just my name No buono, frat No buono Diglielo, Raffae Diglielo Mi saluti live I tiktoker avranno problemi Non, non Ma perché C'è qualcosa che non va Anche a te è successo? Cosa? Il gioco si è chiuso No, no Ce l'ho aperto Mi si è chiuso Zio banana Lo sapevo Ma com'è Aggiornamento Ma che cazzo dici Di nuovo Ma non hanno fatto un cazzo Ma non sta trovando la partita Noi Beh Adesso mi ha dato l'aggiornamento Cioè mi si è chiuso tutto Adesso mi ha dato un aggiornamento Di 2 giga Ma hai mai giocato Hai già fatto una partita a te Adesso gioco Sì Sì Ero anche con persi Adesso mi ha chiuso Mi si è bloccato tutto Eh sì Adesso andiamo a prima Dai rientra Ti invitiamo Frate così Ti invitiamo Eh mi dà Beh faccio gioca Vediamo Vediamo quel cazzo mi fa fare Far con due la gente Come spiega le cose Oh Mannaccia la putt Vediamo se mi fa fare la gioca Non sto capendo Un cazzo Cazzo dei veicoli Guarda che cazzo ci sta L'unica cosa bella 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 Che voi avete Sono messo impressionato È l'audio Sì Minkhi ha visto i miei passi Oh Miki ti giuro C'era uno che era sopra Ma era sopra sopra Oh si sentiva questo qua che saliva Cioè è una roba impressionante No no senti tutto Senti tutto Senti mi ascolta Mi metto schermo intero Senza bordi perché mi rompo il cazzo Se no cioè Eh Ogni volta devo fare avanti Mi va Cos'è questo porco due Questo qua Chi è Come cazzo si chiama questo E' Usimene Regà Ma qua Usimene Bell'amico Ciao Gianmi Buonasera Buonasera Cosa volete da me Invitare 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 Non ti ho detto Che a me parte Dalla Porco 2 Guarda F G I J L E basta Non mi fa più vedere Nessun altro Questo Da rivedere Cazzo di inviti Di merda Amici Un po' Ok Arrivo Bella Mario Cioccinisa Denis Horacio Buonasera Vado a prendere una sigaretta Al volo Che tanto Ma Allora Prime impressioni sul gioco Non mi trovo con le sensibilità Gioco Molto 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 Bello Completamente diverso a code Bisognerà abituarsi Non è così semplice Come cosa Pensavo sarebbe stato Più semplice È proprio Anche se secondo me La beta Lo vedo molto più macchinoso Nel Modo di mirare tutto Cioè su code È molto più fluido Ecco Ma ho acceso la sigaretta Porco 2 Come lo pullman Quando eri ragazzino Arriva subito Come c'è nella sigaretta Te compare È profumato Il live Dei list All'inizio No Ho detto Vabbè dai Ascoltiamo Ascoltiamo Poi mi sono rotto il cazzo Mi trovo molto in difficoltà Con le sensibilità Raga Sì ma infatti perché beta Secondo me Opera lobby fantastico Grazie Siamo rovinati Poi li faccio il culo a tutti Perché 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 Ti sento molto basso B Subito B Porco 2 Subito B Non ci vai alla fine Ti sto coprendo Prendi B E cioè Questa Grazie 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 Per la condivisione Amore Allora Già mi hai fatto mettere Un'impostazione Che porco 2 Quella della mira Che me l'appoggia automaticamente Lo vedo malissimo Non so come vai Oh vedo un cazzo adesso però Dove cazzo eramo adesso Funzione combattimento E' giusto Ren No quello E' giusto se vuoi fare Se vuoi fare lo slide cancel Ma che cazzo me ne frega me Dallo slide cancel Hit marker Hit marker Iniziamo Stanno per busciare B La sto prendendo Arremo Ce l'ho ce l'ho Tranquillo Ok c'è uno qua a destra Persi Sono in due 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 Uno in head glitch Ok Ah Guarda questo Che spot Che c'ha Porco 2 Ciao Mickey Dai che forse abbiamo trovato più o meno la quadra delle sensibilità Ma va Ma va Ma l'audio frontale posteriore Sistemare Sistemare questa cosa qua Che spara i frutti Porco 2 No Sto parlando Un'altra roba Sto prendendo B Ho bisogno di cover Scopato In maniera malvagia anche C'è qualcosa nella mira assistita Che te lo mira Poi se tu sposti troppo la levetta te lo perde Niente Quello lì è sempre su quello spot di merda Stata molto nerfata eh Stami l'assistita E' tutto il cazzo Prendere B Prendere B Copro a sinistra io Copro a sinistra Ah ragazzi L'hai come è venuto Eh sì Arrivo Ando a prendere B Subito Eccomi va WB WB Persi Dai mandalo Mandalo Porco 2 Ma sciolto questo Che cazzo di arma c'ha Ah non l'ho visto Cazzo E' una bomba frate Voglio provare la terza persona Eh lì deve essere anche figo Sì ma l'audio raga Cioè ci sono alcuni Alcuni punti della mappa Che è proprio incredibile Quello che mi ha appena ucciso Ah troppo lento In finestra In finestra Non sapevo neanche che ci fosse Eh lo sapevo che mi sacrificavo Lo sapevo che mi sacrificavo A far sta roba Ma l'ho preso in testa Non è vero C'è che dove cazzo sei Ok 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 Eh niente Questo qua Livello Livello 7 Sembra che Sembra che gioca da Tre mesi Cazzo Ecco perché Ah ecco Aspetta un po' Porco due sto Anaya qua Ah è fortissimo raga Livello 20 eh Che livello siamo a 7 Orco due quanti siete Adesso si vede meglio Adesso si vede molto meglio Eeeh c'è Porco due Ma guarda questo Comunque Leone Raga mouse e keyboard Ci faranno un culo Da madonna Ve lo dico subito Ma un culo Della madonna La rivincita Delle maison keyboard Quella finestra c'è raga Sembra come se non gli arrivassero I colpi Cioè è incredibile Oh che non fa in tempo neanche Di mirare Che ti hanno già fatto fuori No Sei un bastardo Sei Ok Ah si sono fenomenali Veramente No T'ho sentito Ma dovevo sparare all'altro Vaffangulo Va Ah bastardo Ci sta Lei sa cosa fare Per farmi contento Quando fallo Pagamento Lei sa cosa fare Per farmi contento Quando fallo Pagamento Lei sa cosa fare Per farmi contento Eeeh Bisogna prenderci la mano Chatt Bisogna prenderci la mano Ma C'è un bel potenziale Perché La mira assistita Non è come su Su Code raga La mira assistita Non è come su Warzone Molto più Tragica E' molto più tragica La mira assistita Qua E' molto 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 più Debole Rispetto a Warzone Ci faranno Il culo A stelle E strisce Tutto basso Devo mettere Allora Proviamo la K47 Sì così Dai che sono a livello 3 Cazzo Quanto cazzo ci vuole Un'ambulanza Un'ambulanza per Ren Reparto Ma P'è intenzione di Ristartare la partita Qua Guarda Guarda Abbiamo tempo da perdere Niente E' andato Avete visto Chi è Mansoll Avete visto che c'è Osimena Regà Come c'è Osimena Come personaggio Dove si vede Negli Spec Quelli che mangiano Lo spec Vediamo un po' E' il penultimo Nella fila lunga E' Osimena Sì Ma la maschera Vuoi vedere Stop Ah no 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 Per l'ultimo Ma no Perché E' Osimena Ah che cazzo Minchia la droga È brutto scherzo Dove cazzo è andato Persio No non è questione Del TTK Del Time to Kill E' proprio questione Che Insomma Che Proprio No che cazzo Ho acquistato Di bundle Questo è quello che Cioè Siccome è acquistato Sì però C'è un po' esagerato Così Cioè almeno fammi Cliccare sopra Non è che ogni volta Devo fare Proprio diversa La mira assistita Non è questione Di abituarsi È questione Che quando tu Lo metti in mira Se tocchi troppo La levetta Ti esce Dalla mira Proprio Signor Corsini Buonasera Voi cosa ne pensate Chat di quello Che state vedendo Dattemi un po' di Grazie per la condivisione Vedete le mie classi Come sono belle Non ci capisco niente Non ci capisco niente Due E non ci capisco niente Tre Perché Tangi patangi Tangi patangi Tangi patangi Tangi patangi Ma non c'è tipo La possibilità La possibilità di mettere Progressi Un per due Scatenato C'è Vabbè Insomma Fra C'è Ci siamo capiti Come faccio qua Ti puoi mettere Un per tre Un per Qualsiasi cosa C'è Figa Faccio Ce l'ho già Testa di cazzo Tangi patangi Tangi patangi Non lo so Cioè Insomma Come faccio Usare Figa Ah C'è Moltiplicatore Per due Per tre C'è un cazzo Ma avete cagato Il cazzo Se non troviamo Sta partita È molto strano Che non trovi La partita Sua vita Guarda Sono diventato Un supereroe È un misto Fra quello di Star Wars E la testugine Di Non mi ricordo Che cazzo Di Fantastici Ma scusami una cosa Ma io sono obbligato Per farci vedere Quella testa di cazzo Di persi In primo piano Ho capito Ma se metti i filtri Beh Cioè Ci credo che ci impieghiamo Così tanto Ma metti senza filtri Porco due Viva i bambini Togli sti filtri Muoviti Non puoi far vedere Un playlist Alla gente Porco due Ragazzi Che voglio giocare Ci ha messo la playlist E Sono due Su sei modalità E ci impiegano Un 40 minuti A trovarla Persi di merda Guarda Sta pure mutato Quella testa di cazzo Ma vado a scriverglielo In live Quel deficiente Come faccio a mutarti In game Ah Diattiva micro Diattiva voce Ecco qua Ragazzi Ma perché ci mette Così tanto Si può sapere Perché sei un cheater No Dai fate una cazzo di lobby Voi al posto di Perder tempo Sparare minchiate Se non rispondi Se non rispondi No mi dissocio Quindi Ren Ha detto Fammi andare a scrivere Nella sua live Perché sei mutato No testa di cazzo C'è i filtri Togli sti merda Di filtri Non c'è l'utenza C'è Vabbè Niente Non mi parla Un gazzo di pezzo Di cartongesso Facciamo una modalità Con la grande Facciamo invasione No ma che invasione Che ci impichisse io Vabbè Facciamo invasione Pieno di gente Su invasione Facciamo un sacco di kill Facciamo un sacco di punti Soprattutto Salgo di livello Perché mi chiede Siamo ancora bloccati Al tre Che figa Ma mia Che palle Sempre tutti Che si lamentano Niente Persi c'è le sue cose Stasera Mi ha capito Che le mie cose Frate Io sono così Tutti i giorni Figa Cioè Fra Son potente Fra Sono il più potente Oh l'ha trovata Oh vaffanculo Caricamento livello Saeed Attenzione Attenzione No se Ma questo Si può saltare in aria Io però Voglio leggere Terminal Se non leggo Terminal Non sono contento La metteranno Cazzo Dai Sì Allora Il primo che fa Era nuke Raga Ma che cazzo Ecco L'applicazione Ha smesso di funzionare Guarda Porco dio Porco dio 48 minuti Ad aspettare Per giocare Perché Chi lo strunzi Ci mette Lo filtro E poi basta Mi crash Sto rientrando Sento rumori di acqua Wow Scusa Ma perché tu sei il lobby Cioè sei nel gioco Io no Sì Cinque Quattro Ma vai a fare Il culo Ma vai a fare il culo Per si parte subito A me no Porco due Senti Senti Al Milan Games Week Ci prendiamo tutti e tre Schiaffi Va bene Chi molla per primo Paga da bere Che figata Che figata Sono pure i bot No Che ci fai tu Persi No Dai persi lì Che hai messo La privata con i bot Solo per vedere Che sei forte Tiio Vi show Io sono ancora No sono da solo Può fare partecipa Madonna che textro di merda Esatto potresti far partecipa Vedi se te lo fa fare Ancora Io Io Veramente Sono molto Allebito Nei vostri confronti Perché De noto Che il vostro Intelletto È pari a quello Di un catamarano morto Ah giusto Non vedi nessuno Eh già Vabbè Dimmi quando ci sei Che ti rinvito Ci sono Arrivo Non vedo più l'arma No ma aspetta Fammi modifichere Impostazioni Grafica Aspetta un attimo Ora anche sto facendo una strage Mi ha startata una Giocate tranquilli Sto arrivando Sto arrivando Vabbè Arrivo Ti invito Ti invito Bellissima sta modalità No Bellissima Eh fra te Ma cioè Giochiamo insieme No lo so Lo so Fai calmo Mi si è Buggato tutto Ebbene si Si è bloccato tutto E vai Vai Renzi Ti è invitato Ti è arrivato Si si raga Era pieno di bot Era pieno di bot Pieno Invasione Figata Figata Via 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 Sacco di kill Vecchio Con i bot Bell'animale Quindi il movement Qui non gliel'hanno messo Si giocherà Muovendo sicuro il fuccio Da una parte Il bastone Da passeggio Dall'altra Proprio così Beppe Buonasera Budino Bella Luiz C'è del tè nel disagio Buonasera Mauri Signor Salvetti Buonasera Lei Notifiche Nuova Una Vediamo Consigli Grazie Facebook No no Non sono omaggio Tozzo Non sono omaggio Eh La terza persona Voglio provarlo Dopo Tutto bene Luiz Come sta È un po' È che Non si vieni Insomma Allora Però qua C'è L'equipaggiamento Sbagliato Vai uomo Dai con ste stelle Bello 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 Usiamo quello Col mirino Let's go No Dai Cazzo Ah perché Siete in partita Io no Perché c'è un pc Di merda Esatto Ma cosa c'entra Ma lì la connessione Come cosa c'entra E connessione Ma se Cazzo c'entra Che siete in partita Voi e io no È la connessione Lì Che carica prima Eh sì Cioè voi Io sono ancora Come se stesse cercando Una partita Hai capito Mi ha fatto entrare dopo A me Va bene Io però dopo Adesso non esco più Fatemi fare Vai 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 Tanto vi farà entrare Sicuro Oh mio dio Comunque È troppo reale Sto gioco Mi piace un sacco Eh piace anche a me Se gioca insieme C'è anche se giocare Anche io Ok Certo Lei salvetti Arriva e mi fa partire Parti insieme a Rino Ma adesso Ma adesso Sto 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 sicuro Che nessuno Dei due A me Le manderà Le stelle Per i parti Bastardi Dai un bacio Alla Bima Da parte mia Cazzo Una piccola Renica Allora Qua bisogna Capire un attimo Oh cazzo Ma io non salire Lì mi sa Dai che c'è il party Raga Porco Due Grazie per le stelle Comunque Rino E salve Grazie mille Qualcuno Che almeno Ci prova A completarlo Il party Rino Si sente Rino Si sente in colpa Ne manda il 350 Non va bene Raga Sto cazzo Sta cazzo Di arma Qua Non va bene Non va bene Non va bene Vabbè Riproviamoci Vai uomo Dai con ste stelle Mauri Grazie per le 50 Ci colpiscono duramente Aia porco Due Aia Ci sto capi Incazzo Più che altro Per Per come è impostato Il gioco Dovevano mettere Le sensibilità Per tutti i mirini Più o meno Puoi farlo Basta attivare Il moltiplicatore Ma se Secondo me Bisogna fare Tutto il giro A destra Dai Uno che viene con me Chi è questo qua A destra A mia Matt No è Ren Io sono Mi ha fatto uscire Pensa che il gioco Di merda Ok Ren Ren vieni con me Sono questo qua Fianco a te Centrali In mezzo alla strada Si li abbiamo tutti Sul tetto a sinistra Non puoi avanzare di lì Vieni 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 Prendiamoci sto tetto Davanti a me Non ti vedo Sei lontano da me Ah sei ancora lì in fondo Pensavo fossi questo E' il party chat E' il party chat Vai uomo Dai con ste stelle Senti i passi Senti che roba Non si può usare comunque Raga io sto uccidendo solo bot Ti giuro Solo bot Cioè appena becco un nemico Alla posizione migliore della mia Mi fa Che coglione Ci mancava sto roba Nooo Renny dove sei? Ciri grazie per le mille e due Nooo Devo cambiare equipaggiamento Raga Ok E' guarda terrestre praticamente Ma è stressante Frate perché Vai uomo Dai con ste stelle Ci siamo ma sei proprio una bastarda ragazzi siete ancora? io sì 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 ok 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 c'ho il disturbatore che non mi fa vedere un cazzo c'è già già finita ma che fa io non ci so guarda vedi mi concentro sul bot e arriva il nemico che mi trita fra io non sto parla parla eh 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 zio pera ma dove cazzo è questo? c'è non dov'è? equipaggiamenti? ma ci sono tipo i predefiniti col cecchino? vuoi provare il predefinito col cecchino? sì c'è una figata guarda 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 guardate mi sciolgono oh cazzo ma questo non è un cecchino è un catafalco raga sì con un colpo li mandi giù eh ecco hitmark a posto vieni 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 siamo a fianco vieni vieni giù un attimo dammi un attimo perché c'ho sto cecchino qua voglio provarlo hitmark headshot grazie che partecipate per il party no posso modifichere le armi adesso finalmente se riusciamo a passare tra te l'obiettivo è se riusciamo a passare ci facciamo un sacco di kill questo sta qua dentro sta casa ce ne sono tre a cazzo arrivo dove sei eh Gabri è tipo guarda terrestre tra te siamo vieni tipo un progetto ed è tipo quartier generale noi dovremmo andare a quell'obiettivo lì rosso penso io ci sto andando con la macchina stra tranquillo proprio a livelli di bug bene a livelli di bug bene ci ho capito un cazzo ehi amico ma ci hai capito qualcosa di sto gioco trovata partita trovata connessione perfetta trovata domini di ominio è molto bello jo a me piace un sacco ma perché c'è un pc di merda che scheda grafica è capitato a 2060 possiamo ripartire dominio a me con la 3060 mi ha detto che facevano schifo i miei driver ti stiamo aspettando broschi sto rientrando e che c'entra allora uno non può scudo con la 2060 vuol dire che c'è non posso giocare eh no c'è nulla di se ho fidati gli occhi nuovi ti serve roba che ti supporta eh anche la mia da cambiare eh lo so sono povera come la mia allora mi contro le ram e boh rompera anche altre ram e va a fanculo non lo so eh però non dirlo come sì appunto l'ho messo allora o metto tutto basso ah io non l'ho proprio toccato ma pure i fps boh non lo so arrivo se la concittà posso crearmi un pacchetto io? grazie jo ciao grazie like benvenuto ragionamento per la list io voglio andare a giocare a pub g perché sti tempi di attesa qua grazie a tutti recupero rapido bello anzi no scusami massima allerta era modifica emblema poi c'è dovresti mettermi tu micchi? ancora sì ancora sì ancora si ancora guido io dammi un attimo stavo facendo una classe brother non è facile qua quando fai indietro un casino ti è arrivato? grazie adesso metto dominio e deathmatch ragazzi quando vuoi arrivo vai 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 mochillo ci metter su lo domini lo metto match mi guarda stiamo qua 38 giorni par che due guarda par che due guarda vabbè ma bug allora amiche è anche giusto che ci siano i bug ragazzi parliamoci chiaramente è una beta ragazzi non ci fossero i bug ricordatevi sempre che un gioco viene fatto addirittura in alfa tante volte poi in beta e poi in uscita perché? perché sia l'alfa che la beta servono per riscontrare i problemi segnalarli e di conseguenza fixarli una parte che qua Lancio due ragazzi Azz A quest'ora Però si c'è Ma Sono camperatissimi Non camperati di più Impressionante Cioè mi ha già visto Ma io che cazzo ho fatto Raga ma questi Tutto bene? Cioè Sono i nomini No 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 Eccomi Quando muovi E' una merda Fenomeni ti dico solo Persi Fenomeni I porti del live A questo gli ho spento la faccia Gli ho fatto capire subito Chi comanda Pisello in faccia E via Ah ma io non si vede niente qua Scusami Vai Entriamo in God mode o rage mode Mi sa più E' più facile il rage mode Cioè questo sta vivendo in sta stanza Ragazzi C'è uno che vive in una stanza No Mentre viaggevo la chat Questo stava scarso forte Io non ci credo Che è ancora qua dentro Oh mio dio Eh più o meno Super Ah fammi provare Ah c'erano due 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 qua No Non volevo questi Prendiamo Prendiamo B Occhio questo Più rispetto No vabbè Sono fortissimi Attacco con mortaio Le altre 20 euro Disturbo Mi dissocio Mi dissocio Andiamo a prendere B Ragazzi Andiamo a prendere B Maggia Chi te è stramurto Ma mi sentono Sti ragazzi in chat Mi sentite raga? Eh No non dico voi E gli altri Andiamo su A Sono su qua Io sono su A Ma anch'io No i ragazzi In chat di gioco Non mi sentono Prova 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 Vince marker Dio santo Ragazzi Mi sentite Mi sentite Prova 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 C'è 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 Dai ragazzi Dobbiamo prendere B Concentrati Rani Vieni con me Prendiamo A E poi andiamo a prendere B Subito Ah ma con una granata Ti ho spento proprio il luogo Vai vai prendi B Prendi B Ma va a fa' culo Ero lì a B Si mi ha abbandonato come una merda Prendi B Prendi B Prendi B Prendi B Ma non puoi salire qua Capito Mi spara Ma scusami Ma adesso Col pompa Sono già in giro Col pompa Sono già in giro Ma ragà Cioè io c'ho due kill Non lo so E va bene così Cioè vedi come fa Deve È come se la mira assistista Partisse prima che tu miri C'è C'è qualcosa da Cambiare Ti serve Lasciateci Lasciateci Un attimo Ua ob Vai prendiamo adesso ci prendiamo adesso ci stanno arrivando stanno arrivando a questo con sangue mi erano finiti colpi non ci posso credere attivate mette in attivate la chat vocale così sentite anche ragazzo ma io ce l'ho e ce l'ho la chat vocale io caro che switchiata tacciato vocale ok fatto ok io mi senti tu in game ma gli altri non li sentono sta parlando nessuno ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ciao piacere michele questo c'è un fantasma cristo dio ma che figata ma che bello sto missile cruise zio banana stiamo perdendo stiamo perdendo stiamo perdendo ve lo dico questo dopo finché che tempo che tempismo qualcuno subì con me che ci sono buono ho buttato via ci stanno prendendo e stanno prendendo c sono tutti la rega io ho capito che cazzo fanno no ma quello con fantasma raga io non ci credo guardate come fanno stanno giocando da più tempo di noi c'è un attimo che impariamo le mappe fidati che li facciamo il culo a tutti c'è un nemico ma non è un nemico è un tipo un pupazzo si è un esca un esca si mamma mia ma questo qua che sta vivendo qua dentro ah comunque il bannino raga è qualcosa di incredibile e stati tipo semi michael jordan quando usati nice challenge bro non vedo niente non vedo niente non vedo niente ma come mi è nato uno di porca 2 ci avevo due kille regalate non hai shottati tutti e due beh l'abbiamo recuperato abbiamo quasi recuperato ragazzi abbiamo quasi recuperato 30 attimo le posizioni zio banana stiamo stringendo malissimo ecco I bombardamenti sono una cosa spaziale Sì, a parte che metteremo pure il buco del culo Quando lo tirano, porco due Cioè, c'è la visuale che balla la samba Porco due, che triplo, bro Vamo, vamo, vamo Questa la prendiamo e la vinciamo, eh? Ok, arrivano frontali, arrivano frontali Ho bisogno di soltare, ma è questo Questa è tutta Ha cagato il cazzo Ha cagato il cazzo, non ce la dire Non vede niente Dai raga, che li stiamo asfaltando, cazzo Dai, che l'abbiamo vinta, abbiamo vinta, frate Abbiamo vinta Let's go, che rimonta, cazzo Se gioco un airbulla, se gioco, qua Comunque, cecchino, fia, straforte Figa Ciao ragazzi Regalo, amico mio, guarda questa, guarda sta tripla Guarda sta tripla Eh vabbè, giocata della partita, spawn kill, nati tutti lì Diglielo, diglielo Diglielo a quel cretino A chi, a chi, a chi A te diceva Eh vabbè, giocata della partita, li ha fatti tutti in spawn kill Oh comunque raga, quando mi è andata a finire la partita, dove si vede? 93 sa pregalate ragazzi, dai Dai, arriviamo a 150 stasera, dai, sotto 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 Aspetta, aspetta, c'è anche mio fratello Blocca un attimo Cio fratello? Lo ho vedete Oh morì Lo ho vedete online Cio fratello? Lo vedi te Matt, io non lo vedo Forse sì, l'avevo visto prima, adesso vedo vedere subito Parti Oh cio all'ecco qua No Topolino Brambo, ecco qua In vita Ah vabbè, ho sbloccato la K74 Non è così forte, prima non abbiamo provato Ok è entrato tuo fratello, bella Oh, entra nel mio Discord, F Non sento niente Non sento niente Vabbè, startate, dai Ma il cecchino, quando si sblocca Ah, il livello 20 Ok, ok, ok Vabbè, l'uso quello buzzer Perfetto Avete impostato? Avete capito come si fa lo select cancels o no? No Un attimo che devo montare Persi Stai zitto, stai zitto Stai zitto Stai zitto, cazzo Stai zitto Spiegami come si fa Ma te che se no ti sento mille volte Porca puttana Mi devo mutare amico Ma io amico No ma in game io ce l'ho la chat Perché mi piace parlare con la gente in lobby E come si fa? Come si fa? Io non li senti voi i miei amici, come mai? Eh, devi andare su... Audio Audio Metti chat vocale, sì E devi impassare le cose giuste Oh, la volta finalmente Oh, il microfono aperto Il microfono aperto che era su premi per parlare E basta Frate altri Il chat vocale Eh, sì, selezionalo se è a posto Ma a voi fa modificare l'equipaggiamento? Non puoi No, fino al 4 Eh, io sono al 7 Non puoi parlare così che sembri porco 2 E' uno squilibrato E' uno squilibrato Cosa vuol dire? Opacità, sfondo, sottotitoli Mi chiamava veramente Bordi verticali, interfare Formato... Eh, stavi dicendo Matt Ciao Alessio Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace Raga Eh, so silenzioso quando le cose sono nuove Martina che mi devo concentrare Perché anche Warzone Michele sto parlando Eh, praticamente Ma, ma, ma Sì, ma tu devi Ma alcune armi non puoi modificarle Ce ne sono poi Sono sbloccabili Ah Allora non lo so Devo mutarlo Eh, stavo dicendo che Anche con Warzone all'inizio Stavo tutto zitto Poi quando ho imparato i momenti giusti Dove potevo parlare Ovvero quando sono morto Per rompere il cazzo i miei compagni E tutte quelle cose lì Allora lì poi Riesco anche a intrattenere la chat E devo È solo abitudine, raga Poi vabbè Con il multi È praticamente impossibile Mentre sì Dio bastone Ciao padre Non era una bestemmia figa Bestemmia è quando I imprechi a Dio Dandogli degli aggettivi Che non devono essere dati Tipo Dio bastone Eh? Hai visto il nuovo Call of Duty? Ma che grafica papà No vabbè Questo mi ha rotto il cazzo È la terza volta Che ragazzi Io c'ho score 0-3 È la grafica Completamente diversa Comunque A livello Porca troia Se fosse stato più veloce Sto cazzo di cecchino Oh frate Grazie per la condivisione Amore Stavo a chiudere te Bravo Oh ho fatto il dropshot qua Ma che cazzo fa? Vabbè Vabbè Come si sale qua sopra? Beppe Sono in tre Sono in tre Sono in tre Ah per forza Grafica il cazzo Tipo di me Eh vabbè ma cosa faccio io qua? Io devo ancora imparare a vede bene i nemici regà Tutta chiusa sta mappa regà Ce l'avevo lì davanti Davanti ce l'avevo Davanti Ma non c'è mio fratello comunque in tutto questo? No Guarda Guarda la minimappa per capirti frate Guarda la minimappa Mi hai crashato prima mentre Quando sei andato via Tutti giocatori avrete la minimappa Ti aiuta un sacco Prego Ma questo giocava veramente sdraiato Questo c'è un fantasma regà Dio santissimo di Dio 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 D mi ha cercato troppo due madonna tanto di dio mi ha appiccicato pure la semtex che cazzo raga ma si divertono attaccarmi le semtex ma che cazzo è un bersaglio facile a porca trota fatto quello dietro io voglio vedere la vostra visuale non l'avevo ucciso e sta guardando all'altro lato per venga sta in su madonna sono potentissimo si ok d'occhio persi ma dai ma che cazzo non saperi tu Comunque qua non si può fare un cazzo con i missili, raga, tutto coperto È tutto al coperto, fra, è tutto al coperto È tutto al coperto, non fai danni, non fai Ah, in due, in due, in due, in due Managgia il cazzo, managgia il cazzo Oddio, ma come cazzo giocano questi miti? No, ma è lì sdraiato davanti alle scale, raga Ma io non ci credo Ma vuoi ricaricare, Dio scatenato? Ma sto sly qua non fa... E' persico, metà No, lit marker no però ragazzi, da un metro un lit marker no, ok, iniziamo Puoi giocare con un salto? Ok, intanto prima ho fatto 3-dayway kill, e tu? Io can google Porca due, ma puoi girarmi? C'è lo stipido della porta, Miri, cioè... Io non ci credo Non lo vi ho fatto perdere Ma figa Ho fatto cagare, sta mappa qua non mi è piaciuta per niente Unghie incarnite in chat Guardalo Guardalo Bello vai Bello, bello, bello 20 kill ha fatto 20 kill pure io Fenomeno Io ho 10 morti, lui ho 11 Maia Malbao, schifoso Due tirate o tu, 182 Schifoso Merda Sono persia, antica capi? O mori Un po' più in terrone, persi Dai raga, che 20 minuti poi vado su PUBG io Ma come è PUBG, frate? No, no, infatti Dove cazzo vai, Michi? Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo, no, minchia Sì, 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 sì Sì, sì, cioè io il multiplayer non ho la... Oh, ma invitate mio fratello invece di star qua sempre a parlare Ma che cazzo vuole? Ma che si arrangi, porco due, grande abbastanza per arrangiarsi Scemo Stai calmo Ma è giocato questo persiano Minchia veramente Che cosa è successo, Nicolo? Grazie, porzia, lo so Grazie Grazie Grazie, porzia Grazie Grazie Bella, Giova Noi siamo qua ad aspettare che persi starti la partita Ancora Ma addio canguro, ma c'è scritto che sta cercando Stava dicendo che sta cercando Però siamo in due che te lo diciamo, Cristo Sì, ma a te non lo dice A me stava dicendo È bello farle sclerare il persi comunque, ragazzi C'è il suo perché Persi, mi sembra che il tuo movimento non è come su... come sull'altro Mi sembra più lento, più realista Giova su Giocavo con mio fratello E ti sentiva imprecare, eccetera Ah Fatta Faccio... no, ma aspetta Faccio... no, ma aspetta Ehm... dalla vergogna Oh, ragazzi, ma mosh pit terza persona volevo farlo Mi stile c'è, ragazzi Mettelo, ho provato È orribile Ah sì? Tipo fortnite No, peggio No, c'è nel senso Almeno fortnite è bilanciato il fatto Quando passi dalla mira Dalla modalità normale Alla modalità mira Qua è proprio... Ti senti tutto stramolle Stranissimo Come una sensazione Raga, io qua non lo so Ren, vuoi fare lobby tu? Non lo so cosa dirvi, ragazzi Sei in connessione qua Ma la stai cercando Anche a me me la stai dicendo Che la sto cercando Vedi che... Finché, glielo diciamo in 30 Non ci crede, oh Silenzio, sto parlando Io scemo Ione È tutto fatto Su, dai Secondo dice su, dai Aspetta, aspetta Su, io ne sto parlando Sono Massimi di Quarto Voi avete le scale Telescal No, come... Il servizio Io credo che tu è un fantasma di fianco Che dice delle parole senza senso Perché io servizio non ho mai detto In quello che ti ho detto Non so se hai sentito la parola servizio Che pinghi Che non lo so Che facciamo Andiamo mangiare una pizza Pronto Sì Sì Catteleria maledetta Sono Giovannino Buongiorno Salve Senta signora Io sto cercando dei diari per settembre Per i ragazzi Allora ho detto Mi porto avanti adesso Così almeno a settembre Sono tranquillo Che già ci sono i lirvi Tutte le cose da fare Noi non abbiamo un po' diario adesso Non ce li ha ancora signora No Dai Carioca Diù Appena nella posta Dai Sotto il carrello Che mi metto il patrocino dentro Dai Qualche cazzo Comunque hai qualche problema Se anche Celebrale Celebrale Vorco 2 Non lo so Vi sto chiedendo da un'ora Di farla lobby E poi sapete Sono brontolare No Mi posso invitare Tess di cazzo Non so più come dirvelo Parco Dio Ora c'è il ping A posto Mi dissocio completamente Ma bravo gioca col mouse Ma dove cazzo vai scemo Uno di uno di sfondo I codici in teoria dovresti metterli nella mail che ti è arrivata Così hai fatto tu persi giusto? Sì sì tesoro Che cazzo te l'ha chiesto coglione Che intero disturbo Sono Ali Beatles Sì guarda il video che ti ho inviato su Whatsapp Posso che non lo guarderei No fidati È bello Inizia sempre così Ho visto un nero Con le scarpe di gomma Porco E puttana Minchia come le trova bene Se è partito Ma non è già Cazzo proprio Sì ma perché quello c'è i filtri C'è sta solo su dominio Cioè non ha Il suo cervello Non riesce a capire Che su PC Col pre-order Ce ne sono pochi E come Cioè No Ma perché Mi scommetto che ha messo i filtri Vero? Certo è dominio E basta ha messo Ma no Ma devi di mettere Ma dai Io lo diciamo Appena arriva Gianfranco Io lo dico No vado a giocare a PUBG E basta Ma mi ha cagato il cazzo Mi sembra di parlare con un tubero Porco due Aspetta Andate a pisciare Un attimo Dima Ma che è andato a pisciare Il suo cervello Piscia Togli sti cazzo di filtri Ancora Ma dio cane Ma non ci sono filtri C'è solo dominio C'è Ma non è vero Ma è già squadra e dominio Ma mi la smettete Eh toglili Sono sei playlist Non c'è abbastanza gente Per ancora Quindi partita veloce basta? Sì Sì Senza filtri Oh Playlist è filtrata C'è sopra Due di sei Devi toglierla In alto È vero Ho messo due Si Una calmata Dai che mio fratello è fragile Si spaventa poi Non me li fa togliere Ok Non me li fa togliere Guarda Sono i live Non me li fa togliere Non me li fa togliere Che cazzo sei Ma non potete mettere capo della lobby a qualcun altro? In cattoni montana È tre ore che dico fate la lobby voi Scemi No provo a cambiare A mettere capo della lobby qualcun altro proprio Come cazzo? Vai Vai in membri della lobby Clicchi su uno No aspetta In alto dove c'è la lista amici Il tuo party Eh E dovresti poter mettere uno di noi come lobby leader No Che gioco di merda Clicca su di me tipo Abbandona party Invitatemi Sono il leader Invitami scemo Versi guarda il video che ti invito su whatsapp Invitalo invece di manda a video porco due Che mo ti mando il cazzo in chat Sì che vuoi Sono dentro Ok sono dentro Adesso mi manda a mandare Le squinze brutte e luride come mi manda sempre Sì sì vanno a crescere un sacco di volte È bello è bello è bello questo nuovo code È bello è bello questo nuovo code Mi piace mi piace domani mattina E che mi girano i coglioni Perché chi è che c'è sostiene i minchia che c'è là Che becca domani Io gioco Ci va conversazione Parliamo così Cioè di giocare da solo Non è che me ne c'era molto Ma hai visto Pe che ha trovato subito la partita Pe Cioè Guarda guarda Pe Guarda veramente Dico è tre ore che dico Cicciate me lo Adesso Si faccio l'ultima vado su PUBG Ma non rompere i coglioni L'applicazione ha smesso di funzionare Te Sburro male Capita 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 È stato un piacere Successo Che ricapiterà Questa è l'unica volta che potete fare più chi ti merda È l'unica volta in cui qualcuno sarà primo in classifica Non sarò io Ma prima c'ero io Non c'eri tu Io non ricordo questa cosa Ciccio bello Anche io Ciccio bello Certo Certo Mi piace raccontare le cazzate Proprio su questa mappa tra l'altro Raccontate come le tondo con le uscite Raccontate le cazzate le quindicenne Parco 2 Ma ti stai zitto Brutto nasone persiano di merda La latrina umana Guarda che questo naso qui frate Sì 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 Ascolta Stanno ticiche Me vengono fuori 100 euro almeno No 200 minimo Sono dentro Mi invitate? No Io sono uscito 15 volte per voi Come minimo dovete uscire subito vabbè Minchia persi Se scopi quanto parli Adesso guarda Io non c'è sconto Non c'è niente Non c'è fatto Che che spara a dio fa i sassi Che cazzo mi spari tef brutto stronzo di uno Ero spinnato Ero spinnato lì come si chiama lo shock Venite da me Cioè uscite Io ti vengo in faccia Tef puoi uscire da sta cazzo di lobby Svegliarti un attimo Dai Dai Dio di quel dio 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 Perché è nato Dio per noi Ma Tef No aspetta che arrivo su Te porto un disegno Devi uscire da sta cazzo Deve partita La famiglia proprio di bruciati Ma non mi dice nulla questo Non mi dice nulla Ma vabbè Stef Ascolta Ma tolgo lo stipendio Basta Avevo uno stipendio? Avevo uno stipendio Dice Avevo Che faccia dosi Due robe Due robe Le mail Non me le guarda E l'altra Le fatture E non me le fa Due cose Non sa fare niente Le fatture Figa Neanche le fatture Vai porco Tu Inutile Sei Sei inutile Sei inutile Ho visto più la prelobby Che le partite Zio porco Sì pure io Cazzo Che vita di merda Partecipa alla partita di Ren Sono dentro Sono dentro Sono dentro Sono dentro Sono con voi Cazzo Tenetemi per mano A quante tipole hai detto Questa frase A neanche una Mai Chi di naso abbonda Di cazzo sfonda Armano Grazie bro Persi Metti un po' di reggaeton Frate per piacere Puoi uscire Ce la faccio Più Con voi Guarda che quando tu urli Non si sente Il tuo microfono È condensato L'importante è che mi senta La mia live Guarda che roba Guarda siamo pure al Sbrong hotel Sbrong Non è treviso sto hotel Sbrong Sbrong La porco Sbrong 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 Come devo fare Con voi Dugo Andiamo a sbattergli La cappella Come tamburi Sbrong Che tamburi Che tamburi Senti che fan Din 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 È il mio È Mi piace Tre in calmi Sembra che ne hai 65 È una campanellina Che schifo Allora ci fa Challenge 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 Mettiti tu Cecchini Via Il cecchino Il cecchino Dai Usa il m4 Usa il m4 Usa il m4 Il cecchino Ma io sono povero Ma io anche nella realtà Sono povero Vedi Mi vincere Che vi bacio tutti Olaga Mezzo di m4 Mezzo di m4 Mi vede Me l'ho sfondato il c4 Siamo già in spawn kill qua Mannaggia il cazzo Che ti frega Sempre i bug sbanni Zio però Mamma mia Arriva 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 Sta arrivando Ci sono io Parlami però Ci c'è Nel senso Eh C'è una qui Eh Troppo da qui Lì Sto ci vediamo Un po' di cose Tony Non ho capito Come ha fatto A ucciderci Mi sa che Con roba lì Può fa danno Attraverso No 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 Ammina Clever Ehm Che cazzo è lui Che cazzo è lui Che c'è Bello Dimmi che un Tattico ti prego Che faccio 70 kill Comunque L'obiettivo E prendere le bandiere C'è mai che Io caro Amol Sono morto Per qualcuno Di voi Oh no Ma il suo C'è chi è bellissimo Ma è veloce Porca troia È un fucile Tattico Vabbè Tu sei un pezzo Di merda Però Non sto capendo Sta mappa Io Dai Ma Che cazzo Di busciata È Non sto Capendo Sta cazzo Di mappa Io Ragazzi Ho tre kill Porco Due Sono bastato Uè Grandissimo Mi ha visto 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 Sto pure lì provarci no dai mai uscito già sparando sono potentissimo finestra alta c'è uno in stanza che sta andando verso b io mi dico comunque ma la gente porco 2 c'è questo qua raga c'è si gioca così nel multi spiegatemi quattro kill c'ho raga gente ferma immobile ma io solo così porco giro quello è una poltrona dio qua qua c'è stato un bel ritardo è nello shooting persian no bene ragazzi stiamo perdendo lo vorrei dire andiamo a prendere arriva arriva Io il multi, raga, non ci ho mai giocato nella mia fottutissima vita di merda. Si vede. Guarda questa, da dove spunta fuori. Ma raga, ma questo è simile. Vedi che non uscire la vappa è troppo importante. Ma che cazzo? Minchia, persian, 17 kill. Ma no, ma sei un po' forte, bro. Madonna, che camper di merda. Questo è un po' buono, non mai che... Def, ma chi ti ha insegnato a dire queste cose? Eh, ci stanno facendo il culo. Niente, 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 niente. Sti divanetti in pelle e in ultra HD, porco due, che non mi fanno passare. No, 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 ragazzi dovete fare, guobi, non posso fare con lui, eh? Dai, su. Cristo. Stiamo perdendo schiaffi, ve lo dico. Vado a prendere C. Sì, ma tu sei tutto un vado a prendere. Poi quando guardi la classifica, hai fatto solo kill e non hai conquistato un cazzo. No. Bravissimo. Avanzare e chiudere il nemicino A. Sto andando. Stanno perdendo B. C'è una persona. Non vedo niente, sono vivo. Sono ancora vivo. Questo sei tu? No, no, no. Oh, no. Oh, ma tu, cane! No, mi disegno. Oh, l'ho spawnato con un missile addosso. Ok, ok, stanno arrivando. Abbiamo perso tutti gli obiettivi. Dove prendere A? Arrivo. Sembra semi-lucone. 2, 2, c'è un altro. One shot. Porco due. Robi? Sopra. Questo con un fantasma! Dai, siamo... Abbiamo perso, raga, cioè... Abbiamo perso. Io l'ho sentito che c'era quello di lì. L'ho sentito io che c'era quello di lì. Niente. Ah, e questa l'abbiamo persa. Quella dopo possiamo vincere la grazia e rivederci. Cazzo dici, Toz! Guarda, persian. Vieni a giocare, Nardocci, ti prego. Ti prego, Nardocci, ti prego. Ti prego, dammi i tuoi diti e aggiungo subito. Ti prego, Fra. Fermi tutti, fermi tutti. Io vado, raga, vi saluto. Io ho già quitato, sì. Ciao, raga. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Non è perché pure nel cazzo devi... No, dai. Aggiungi amici. Fra'nda? Abbandona persia. Bisogna fare l'abitudine comunque. Completamente diverso. Visto che... Eh, ma tu non hai mai giocato al multi, figa. No, no, ma proprio lo sparare. Io dico lo sparare i movimenti. Eh, ma anche già se prendi caldera e vai sul multi di caldera. È completamente diverso. Non c'entra un cazzo? Sono due cose diverse. Il time to kill, il ratto di fuoco. L'ho visto che da quando hai messo la Black Ops. Sì, no, quello sì. È tutto diverso proprio il multi, eh? Una cosa proprio, quando hai messo la Black Ops. Sì, sì, sì. Il sistema di shooting l'hanno cambiato, se vede proprio. Ma c'è Cesa? Dovrebbe essere pure fresco, Cesa. È appena svegliato. Non so, svegliato. Svegliate ai 9. Che ne so? Non ho fatto tre tromboni adesso e sveglio. Era là, era online. Dio, mi diceva che c'era online. Qualcuno mi invoca accesa in chat. Non so più dove la lista amici. Male, molto male. Madonna, ma ha scombursolato il multiplayer, regà. Porco due. Eh, guarda, il code ti spawna. Io pure ho fatto un po' di cooperativa sul code. Mamma mia. E in cui io inizio. Che comunque non è proprio così lento, eh? Nuovo code. Sarà due e quattro. Due e quattro. Te da due e sette a due e quattro. E andarci una svegliata, figlio. Posso giocare nel posto di Cesa? Certo, forza, vieni, accendi, dai. Ogni volta mi riattivo la chat vocale di Renda. Che fastidio. E amore. Nooo. Volevo entrare nella stanza loro per rompire il cazzo Sì, 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 anch'io Quello è ritentato, eh Ero lì, ero lì, butte e smutte, butte e smutte, butte e smutte Quello è ritentato Sì, sì Dai, mettete pronto test di cazzo Ma che cazzo di caffè vuoi farti, mandatelo in faccia, scemo Ah, non è vero, Matte diceva fatti, il caffè invece scalda il cibi Mi stavo a toccà Stai toccando? Stavi rollando, non ho capito Mi stavo a toccà Ah, toccando mentre rolla Wow Eh, sono un maestro io Chi è che è entrato in squadra da me? Oh, non si può fare una roba due secondi che ti deve entrare tutta la gente a cagarte il cazzo, eh Ah, che cazzo è stato, mi sono uscito Mamma mia, mamma mia, mamma mia Stai acceso Eh, sto arrivato, no, ecco, stai raccomparso Unisci, unisci i zamatte Non mi finire, sarebbe Devo farlo associato No, no, arrivo, te No, no, arrivo Ah, è bellissimo il multi, rag Ah, io aspetto il 24 per provarlo Allora, poi, devo dire che Di tutti e tre i... di tutti i multi Il più bello era questo, l'ultimo Questo qui di caldera Questo era il più bel multi Per movement, velocità Io, 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 guarda Vabbè, entrate da da, ma dai, entrate, muovetevi È che ci devo... volevo metter poni dietro le armi Ma c'è sta... Ma c'è sta quella stronzetta di matta a coprire È del poni, però No, non è vero, Davide Ha cambiato un sacco di... Cioè, a sparare E a... E modalità di movimento e tutto È molto, molto diverso L'hyme assist è stato nerfato di brutto Sì, è Però è... così ha dato più competitive Tra i tastierati e i paddari Non è vero Hanno fatto... Hanno fatto l'esatto contrario No, vabbè, hanno solo un po' nerfato l'hyme assist Sì, no, ma tanto, regate Devi abituare Ma prima con l'hyme assist Col pad da PC era molto più pronunciato Certo Adesso che l'hai letto Ti hanno pareggiato un altro No, 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 no Hanno fatto la cosa completamente al contrario Cioè, non è pareggiato Nel senso Come prima erano svantaggiati quelli MK Adesso, secondo me, saranno molto svantaggiati quelli paddari Sì Aspetta, aspetta Devi pensare pure una cosa Se giochi da PC Se giochi da PC È perché nella regola generale Dovresti giocare da MK Ma non è vero Sì Sì Le console di adesso sono quasi pareggiabili Ma no, ma perché fino a 10-15 anni fa chi c'aveva il PC era perché era uno che capiva di PC e c'aveva il PC perché lo sapeva usare Ma il PC ce l'hanno tutti Non c'è una famiglia che non ha un PC adesso Eh, ma se poi giochi a COD Giochi da console Col pad Da... Senti, va bene, va bene Ascolta, anche a te A te piace fare i bocchini col culo A me non piace Però non è che per forza loro deve piacere a tutti perché piace a te A me piace farlo con i piedi Wow, i secondi con le due dei piedi Tra pollici e quello vicino, capito? Ma io pensavo... Le new jam parlavate dei ragazzi Sì Comunque date il tempo di abituati Cioè, Renn vedrai che... Chiedi, prenderci la mano Sì Molte c'è stai trovata Perché hanno cambiato totalmente lo studio in progetto Vabbè, poi è ancora una beta, eh Possono ancora migliorarla, adesso ci farà un beta Vabbè, ma anche Matt è un beta da quando è nato Non è ancora cambiato Che ce l'ho fatto? Ma io non ho visto... Oh, ma chi è sceso adesso? Cesa Io, io Oh, meglio che mi ha fatto cagare addosso C'è esatto Ti sei fumato un bong, vero? No Sì Non è vero Non è vero Sta morendo, via Eh, soffro di asma Acuta Sì, eh Eh, f*** 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 Sbong Eh, sì, sì Lo dico pure io Cosa è lì? 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 Oh, compensatore Impugnatura verticale di tutto c'era qua Grazie Chef, ti voglio bene Cosa è lì? Che arma c'hai? Cosa è lì? L'M4 Ok, allora ho niente Perché? Eh, no, no, perché c'avevo pure l'M4 Se qualcuno mi dà un silenziatore AR Gli do un compensatore AR Perché? Puppazzo di neve Puppazzo di neve Puppazzo di neve E mi sento molto gentile Mv2 Eh, Mv2 ci ho giocato tre ore, raga Cioè, già a me non piace il multi Eh, non avevo la pazienza di giocarlo Bello il gioco perché volevo capire un attimo le meccaniche Ci giocherò comunque a stecca perché Non voglio accendere quando ci sarà Warzone E prendere proprio le fresate sui denti Porco, due Bello Ma poi Warzone non lo metterà stupendo Beh, sarà Puoi vederlo, eh Se vuoi andare a vederlo poi c'è Eh, ho visto la cosa No, Warzone è Warzone Ah, è scesa gente così Sì, palazzoni Pensevo li avesse visti Non ve li ho chiamati No Hai palazzoni un team da... Eccoli davanti a noi Ha rotto un vetro Arrivo Sono qua da me Un bel tempo Riuscire che sennò rompo il vetro Oh, mattona Viene uno alto alto, eh Colpo la testa Uno l'ho messo su io, eh Terra uno Ok, c'era il mio sul retro da confermare Eh, ho bisogno di prendere la mano se devo restare In casa, in casa No, 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 fammi fare il giro dell'angolo, sei matto Sì, entro, entra Bravo, bravi Bravo Adesso... Voi ho bloccato Guarda È sul... Eh, l'avrà arrestato ormai Se c'è che non può uscire da qua Sì, forse Andando ad 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 entra io, eh Andando ad piano Terra uno A terra due è fatto Tutti morti, tutti morti Due assist, a posto C'è morto questo C'è un bison qua da me Aveva un ACP che non ne ho più C'è un compensatore R su questo L'ho trovato in casa del ACP Eccoti qua Pieno di compensatori Sono le mie quattro sopra Ci sono sette per caso Si, quel cadavere è qua dentro Appena entra la stanza a destra Vicino al letto Check it out Dovete sapere, stamattina mi sono svegliato E mi è arrivato sto audio Bella ciao, bella ciao, bella ciao No eh No quella roba Ehi, ma per caso Hai perso un sondalo Un sondalo C'è, detto malissimo poi Tra l'altro, perché non si fa così minimamente Te devo insegnare tutto Quindi fa, raga Ma, ma, ma che è che ha perso Un sondalo Ti ho capito, c'è Ci vuole esperienza per certe cose Insomma, non è che... Ho anche classe 45 Grade 28 orco 2 ma mamma non ho visto la luce cedere gil perché tu dici che non ci sei e poi vieni mi hai fatto cagare addosso mamma sto sentendo tutto caldo sul corpo tu non hai un'idea ma chi è che ha perso un sandale no non ho provato in terza ragione anche lei signor tui pazzo signor tui pazzo pari pari tui tui pazzo Allora io ho preso una moto Vado a cercare una mochina Ho trovato una mochina E vi vengo a prendere Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa la buona vita Pagamento Lei sa cosa fare per farmi contento Marco grazie per la salva Due mesi La smetti di digerire È stata mia mamma raga Oh matto Mi stava per buttare sotto Dai salite su Ah mamma guarda mettiti le cuffie un attimo Raga facciamo il balletto Venite che facciamo vedere il balletto a mia mamma Preparatevi dietro di me Si fa in mezzo alla strada Si assetta Anche questa Aspetta Non me l'ho fatto Me l'ha fatto mettere un attimo Il coglione di chef Mamma Silvia ti saluta Ci vuole del fumo Fai partire in automatico Andati Fremiamo noi tutte le robe Ma cosa fare? Eh ma allora Tu no Oh chi è che sta buttando le accecanti Non vedo più niente Mi hanno spaventato Mi sono spaventato raga Spero di non aver forato la macchina È posto? Io li butto sotto Dai spostati Andiamo Che c'è in casa Chef lo mettiamo nel baule La mamma renna Ciao mamma renna Le corne Ma dov'è che si è andata? Ho una granata da lasciarti Ho fatto il mio primo senza pietà Cosa vuol dire? 10 uccisioni di fila È la madonna Aia Chi è che ha sparato? Mi è spiccato Madonna macchina Dai ragazzi Dopo vedi come sapevo Dai ma a me frame lagga comunque raga Quando mi butto giù dal veicolo Sì? Boh Cioè adesso ti stavo a sparare T'ho preso T'ho preso E poi ne ho smesso di prenderti Non so perché A me frame lagga quando sta sopra No a me quando fai tipo le robe Che apri la porta Entri nella casa Tutte quelle cose lì Boh Cioè adesso proprio palese è stato Ho detto ma come figa Mi sono ritrovato morto La gif che ci segue gli sparo? La gif che ci segue gli sparo? No ma va la spada No ma va Non è una scusa figa No no Era girato Tutto a proparte Ah Che sa Tanto dei trofei Sì che ci sono già passati Mitch Ti do una granata Vieni Vieni da me Sì Ma merda Non c'è sta a cazzo A miei piedi Eh sta granata Ok Ti ho lasciato Ti ho fingato Non capivo Non capivo Non capivo Non capivo Non capivo Oh oh Ci sparo da fuori Uno in terra Arrivano gli amici Non pusha Non pusha Lo sgrano Sto sgranando Arriva un'altra macchina Ma erano due lì all'albero L'avete fatte tutte e due? Sì 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 Li ho fatti di due Oh no l'altra c'è sta No c'è il tank Via 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 No no sta andando via penso Ok Ok La macchina è a terra Gli ho spagato due le gomme Non si muovono più da là Sto guardando il tank Non lo vedo più Non so che sono sceso qua dal tank No sta andando via Sta andando via A terra Sta finito Ho preso l'assist Sì Sto sulla terra Colpito l'altro A terra Praticamente confermato Morto morto Andato sì Morto No non è andato Non è morto subito Forse è quello nel lab Eh infatti Eh sì Quello nel lab Hanno preso la collina dietro No mi prendono così Non mi vedo Raga questi qua che abbiamo ucciso qua Stavano pieni di roba Dove sono questi? Qua all'albero Un altro team Un altro team A sud La 165 Qua sulla collinetta Provo Prendo gli edifici qua Eh uno però Cerca di venire con me Da me Con la macchina A terra uno Eh già era coperta Ma sentivo che mi sparava in vicino Eh io non posso muovermi Aspetta Faccio una cortina del boom Sto arrivando io? Sono Qua dietro Dovrei essere safe Fermo Vi voglio pushare con la macchina Mi sto Sto restando stesa io Non posso venire Vatti prendi il veicolo e vieni Eh no sto venendo a piedi L'ho fatto al fumo Prendi il veicolo e mi faccio il medikit Non cazzo Sei cesa? Sì sì La cadere deve venire il prima possibile Raga Vai 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 Audi un attimo Due secondi Ma non ci credo Era la moto Quella lì in terra Raga C'è stanno questi? Sono qua Sono qua Eh Io dovevi guardarmelo tu Che cazzo stava questo Eh una sinistra Uno frontale Una destra Non mi hai amato No davvero Io ho sparato una moto Colpa mia questa Colpa mia Non lo vedevo Però dietro l'hub Una è solo la collinetta Qua d'altra Eh no Non so Sono dietro la macchina Sto avvenendo con l'hub Alien Menti Col camioncino qua blindato Ma fate schifo Livelli 108 livello Però Oh Mi ho carezzato le bambole Sto partito Non era da pushar Sto team Tranquillamente No con la v così Cioè con l'indato Erano tutti giù dal lato No ma non avevano anche No ma ho toppato io Regà perché ho sparato uno Che pensavo fosse sdraiato Invece era la moto Capotata in terra Dai con se stelle Sono girati tutti Eh sì Solo che poi è venuto su Matte Ok Eh non lo sapevo che c'era quella sinistra Eh io No l'ho guardato Stavo guardando io Quello sinistra Che ci stava pushando Ho detto Vabbè Matte Si fa questo qua frontale Quello frontale Guardate ma c'avevo la granata in mano Grazie per le 50 Scupa Balletto Per questa la mappa Decido che si fa Questo balletto Ma è che facciamo tutti Puoi andare avanti Ci sa E cammini con la faccia avanti O avanti Ce l'hanno tutti Segg Si 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 va con la lì Con la barba di babbo natale Segg E' felice Lo sapete vero che ci arerranno male i lobby adesso quelli lì Dice Eh sì Si 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 riconoscono io il giubbetto Sono l'unico giubbetto rosa Ti vedono tipo da Miramarra E Rangel E quello penso che era l'unica mamma barbuta di tutta la mappa Donna barbuta sempre piaciuta E il pozzo Guardi i capelli Ce n'è uno dall'altra parte della città Io sto accendendo il capannone lungo Vabbè io vado a Il capannone qua sono scesi Io vado al rotondone Apparazione lì due Oh chi è sceso qua? Io Madonna ti stavo per shottare Ho raccolto subito un pompa Ho sentito passi Mi stava per shottare adesso C'hai capito Pro player Adesso Vara viene qui Mi spara veramente Solo perché capito Lo sto insultando Adesso gli tiro un colpo di pompa In mezzo agli occhi Minchia vieni qui che ti buco Minchia vieni qui Non c'avevo più lo spazio Per inchiappertarti REN CULO Giusto Ha ragione Chi era? Era mio fratello Chiunque era ha ragione Era mio fratello Vabbè dopo vado ad abbatterlo Non è un problema Povero te C'è un carletto No già mi ha fatto incazzare Ma dove? Sul code? No nella vita reale Ah ok E che cazzo so Ho visto che prima eravate insieme Facevate all'amore Facciate l'amore E' molto bello Oh Giubbo è ucciso E Zaino scusa Quello anche con il rosolo E quello per la seita Oh bellissimo allora Vabbè ci siete voi per andare a combattere No non è una mitraglietta Ho solo un SKS E il pompo Bisogna un arma da vicino Un MP Un Bizon Un Uzi Scrausa E tu la smolto La granata Eh la smoke almeno Sì 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 Ho preso la granata io Ma io sul Giubbo ce l'ho Uno e due Ah no io al Giubbo non ce l'avevo proprio Bello Neanche meno la risposta Sono questi i compagni di squadra di cui ho bisogno Ecco l'ho visto sì A 240 dietro la copertura Sopra il sassi Guarda chi è entrato ma E' persia Madonna persi Cioè quando ti viene a Milano ti infilo la lingua profondamente Eh sì ma perché non scarichi per G Chi è chi è Minchia Gil Minchia Gil Non c'è Gil C'è tutti meno che Gil No come No c'è anche Gil C'è anche Gil È mutato No no ci sono Ma c'è Cristo Ciao Gil come stai Ciao ciao Gli albori di Warzone abbiamo fatto la storia io e te insieme Poi c'è Cesar Matt Ma come Matt Non c'è Matt Ma è un altro Matt 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 Allora ragazzi sento qua E' la versione Scrausa Io ti voglio vedere su PUBG Va bene fra un giorno lo faccio Io ti voglio vedere nudo sul mio letto Ecco Mi aspettavo va bene raga Adesso lo faccio anche quello Ma domanda Ma Cono Ma Cono senza la tua donna Sono io e te Certo lo sono io e te Che cazzo vuoi Che cazzo vuole lei Lei filma Lei filma Marco 2 è pericolosa la situa fra Ti facciamo i soldi suoli Davanti a me c'è anche una moto Va bene ma accesa se hai fumato una canna No No Solo un paio No Ah per sapere se era sempre così o se è proprio perché si droga Sì tranquillo no No sono sempre così io Ah sei sempre così Minchia se ti droga è un casino fra È una coincidenza forse Ok Mi fotte il bombardamento Per salutarvi Ciao Ma stacchi te Sì frate Ho fatto quattro sbattigli Uno dietro l'altro Vuol dire che la batteria sta per finire Non so se avrò forza di castigarla Ovviamente la rimanderò a Tali Devi raffermare l'altro giorno Ma Oggi non è il tuo giorno libero Spero ti stia guardando in questo momento Non è un problema mio di certo È un problema suo più che mio Comunque detto questo ragazzi vi voglio bene Ciao Ve ne sto andando Arrivederlo Ciao ragazzi Allora a me mi hanno sparato È stato un affronto enorme quello eh Da dove però? Non ho capito niente Da direzione del palazzone Perché non ascoltate mai Chesa quando parla? Perché ho ascoltato Perse Che diceva cazzate Stavo ascoltando anche io il Perse Però potevate cagarmi un attimo Io avevo una paura che mi fottevano in quattro Tipo Gang Bang Bello Chesa A me no Vabbè Chef Che cosa c'è che non ti piace a te? Ti piace pure la merda spruzzo nel senso No 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 L'altro giorno era Un'intenzione diversa Ti ha sparato? Non è mio È una trappola lo sapete ragazzi Figuramente Sì Mo' noi ci capicolliamo lì e questi ci fanno in capicollo Chi è che ha rotto un vetro qua da me? Io 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 sono io sotto di te Ecco l'ho visto eh Uno è qui dentro All'ultimo piano proprio Vedo che ci fai dalla finestra uno Eh gli altri non li vedono Ho visto solo uno Sul tetto Wow Ma questo tira fuori la testa col car porco dove mi apre Anche se io se salgo qua sopra No è corta È lì sul tetto Non posso venire da voi Non so che giro fare Aspetta Mi sta guardando Eh mi guarda come mi affaccia È lì che mi guarda Sì esatto Io non riesco più a rimuovere Non posso Non posso venire da voi Posso prendere di spina Pensiamo noi fratam Però l'ho pigliato bene L'ho pigliato GG Va a far furbo questo Ce l'ho già al jubble 3 io Prendilo pure C'è il jubble 3 lì Matt Te l'hai preso su? No È lì sul tetto Ma dove stavamo? C'è un 4 o un 6 per là dentro Al 2 No al 3 Ah ecco C'è pure il casco Ragazzi c'è altra gente qua dentro comunque Il palastone Mi sento camminare Gli ho sentiti Entra È lontano Quella casca di scendiamo ha fatto paura Questo mi sa che è un botto Scusa le scale Arrivano a mezzo Arrivano a mezzo Lascio rivenire Dov'è? Niente Si è presa una bella rullatante questa Ok Sono indietro quelli con la macchina Vi li vedo Sto fermati Che schifo il per 3 Madonna lo odio C'è se vieni sul tetto C'è un per 8 Troppo per 8 C'è un per 4 C'è un per 4 6 Se non prendi il per 8 Lo prendi di mano È sul tetto Dov'è che sono questi? Qua Finger rosso La macchina Aspetta Da che parte si passa Vieni sul tetto Dalla finestra Devi salire Dalla grandaia Dio portami Arrivo 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 Non possono prenderci tanto Uno sta Non possono prenderci Dai la granata No Ho sbagliato Chef non serve Non tirarla Stai fermo Eh no Avevo la cosa Mi ha messo la granata C'avevo le smoke Non so perché C'ho 5 smoke E mi ha dato la granata Grazie Sto la vinta Non ce l'ho più Perché? Eh uno l'ho visto Che girava su Non l'ho visto Gira a destra Però Sì Ah uno è sopra il silo S'ho ancora Sempre ancora Sopra il silo Ma non è glitch assurdo Sto in possibile Poi andiamo sotto Facciamo il giro Sì 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 Adesso le pushiamo Normali Sto in possibile Lascio qualche libida Di questo Grazie per la condivisione Amo Mi stanno andando a pushare Io sto scendendo C'è una granata per me C'è 5 smoke Mi ha messo la granata Io non la so Perché fa ste cose Sto gioco Certo da questa parte Sono qua da me In due Dentro? Uno fuori Uno sopra Ok Qua all'angolo C'è io non ci credo Ragazzi Ma l'ho messo E' one shot con la granata One shot E' qua fuori a destra Uno mi deve restare Raga Muoio subito Venite dentro Cazzo Raga Non dovete uscire Dovete coprire Tornate indietro Qua c'è E' qua Detto l'altro Bravo L'ultimo da me Sta restando L'ho visto L'ho visto Ma te no via Perché ci hai esaguitato? No Sbagliato No ci hai sbagliato Come? Oh no Per fare come il spettatore Ho tenuto premuto anche la Raga Quando uno va a terra così Che lo one shot One shot Quello che mi ha fatto Che se ne va via Che scappa Non serve andare a pushare Raga Basta che tenete In head glitch No no Ma io non stavo Pushando Quello che No vabbè Non lo so Tu cosa stavi facendo Che fera fuori Porco due E sono arrivato Dietro al camioncino Ma ha massacrato E l'ho messo a terra E' venuto a darmi Supporto Diciamo E' venuto a darmi Supporto a Cesaro Stava ammazzando E l'ho messo Giu' uno E l'altro Infatti è matolato Ci sono granate L'altro Quello giallo Eh ne ho 5 di granate Rega Non ho spazio Io non le prendo Perché faccio brutte cose Con le granate Che pomogeneo Raga Io avevo un sacco Di cuore avevo Ne ho Ne ho già due Un sacco di bibite Un sacco di antidolorifici Sì confermo Io ho dato una toccatina Al cadavere Era pieno Mi serve il giubbo Non so come Ma avevo tipo Dieci antidolorifici Prima che ne facessi uno Ma sono per sei qua Ti vuole a Bayard Qual è quello con le granate Dove stanno le granate Dentro 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 a destra Non c'è un jubbole 2 qua Non ci credo neanche se lo vedo Non ci sono le granate Vabbè Sì dentro lì Come entri Come entri non ci sono No 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 Le avevo pingate Ma è mettre È un ping quadrato La pingara verde Ho visto che c'è Alla fine Che cosa? Un zoom No No Georgi Cancella 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 il commento Che rischi di essere Bannato Da Facebook Giorgio il mio pink verde la scatoletta verde oh madonna mi ha fatto cagà addosso ti dico che non c'è sun le grenade qua al quadratino verde si vabbè pronto non va io ho sei happy camper guarda qua ho dentro la macchina non ci credo non ci credo happy camper attention action no perchè facebook c'è io cos'è che avevo scritto ah vabbè avevo scritto dick a uno un giorno 24 ore mi hanno bannato io non scrivo mai niente non mi bannano mai chef è stato bannato tipo 6 volte perché ce l'aveva sempre con i francesi alludeva delle baguette non lo so cose strane mezza che per una volta che ho detto che l'unica cosa buona che fanno è la tartare mi hanno bannato 5 giorni per un complimento che ne ho fatto ma qua sai che è penso che una volta come quel dolcino qua se ci fermiamo io dovrei prendere un ciuppettino no ci sparano sparano là sopra la montagna non è di sponga questo è il dolcino io lo so che ci muoio perché è tamponata una macchina che spong lo metterò in un nuovo istante perché abbiamo preso un albero cosa serve adesso è aperto qua eh sì ma erano qua sotto a regola aia dietro un albero ok l'ho visto l'albero l'albero è bravissimo mi stavo anche spostando ma ho preso comunque eh io al prossimo knock sono finito bravi bravi ne basta una di smoke raga eh intanto ne ho 8 ne ho appena tovate due nella casa 8 quindi eh pubg si ma gli sparava un altro team pubg potete scaricarlo per qualsiasi console con qualsiasi cosa raga anche telefono è gratis e dove stanno? sparano sotto secondo me stanno sotto no quelli che sparano eh dove abbiamo visto il tuo dolcino moto? moto? moto che arriva da noi ferma qua lo scollino eh ho sparato io si per farli fermare oh 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 uh li hanno appena tritati là dietro dietro là a 130 stanno tirando prendiamo lo scollino qua in alto siamo lontani dalla safe eh è la quarta quella che passa oh non li vedo ah qua sotto qua sotto ma è la mia sinistra a terra uno morti tutti bravo non ci credo io raccolto un altro giubo rotto porco demonio magari adesso cosa l'hai fatto con la granata no e l'ho l'ho sparato un po' infatti 57 spesso il giubo come sta messo? eh 72 72 mai deno got 56 9 non ne ha ma poi la trova box acp 9 non ne ha vai che brutta safe no vabbè ma sta mappa meno male a meno che non chiuda in open questa mappa è tutta liscia hai un po' di mollino macchina che è in strada là in fondo a noi gli serve il veicolo adesso c'era tu dove è? non erano indietro? dove siamo arrivati? eh.. no anch'io non l'ho non posso caricaero i text ora non? Ho letto ora il messaggio della Porci nel gruppo moderatori E' brava Porci Infatti era lì che voleva scrivere il live? No Porci Sfogati nel gruppo moderatori E' arrivata subito Abbiamo macchina qua Non chiedetemi perché era sbagatissima Aspetta che mi metto Nooo Nooo Alla collina Ho trovato Ce l'avevo costruito pure io Devo prendere quelli la sopra Guarda questo qua amici Guarda Aspetta 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 A terra Non è a terra No Non l'hai colpito te Penso di sì Non lo so Mi ha eliminato Duro Sì Sì Stavo sparando a me E' spostato Bravo No ma c'era un altro qua dietro lo scollino Sì Mi ha sparato Per fortuna non mi ha mai Vedete E' qua alla smoke Aspetta che provo a sgranare Allontanati allontanati Perfetta l'ho preso l'ho preso Ce n'era un altro qua scollinato nascosto Sono due Ma quanti erano qua? Erano 5 6 Quanti cazzo erano? Chef sei sempre in ritardo comunque Quanti cazzo erano? Eh non lo scollino di te amici Quanti cazzo erano? Erano un quarto che era stato nascosto Erano un altro team Io ne ho visto solo uno E poi mi è saldato fuori il secondo C'erano altri tre vicino a me Cioè Erano un altro team Erano un altro team Adesso di questi casi erano messi giù due Ho fatto la cazzata che volevo prendire me da terra Eh? Dovevamo rimanere in situ Dovevamo rimanere con te Non dovevo allargare a massimo Ha già fatto la strunzata Oh bra Ha già fatto una grandissima strunzata Tu che ce ne sa te devi parlare di più eh Devevo parlare di più eh Devevo parlare di più eh Devevo parlare di più eh Perché quando ero Non riesce Eccola che quando tu vai a terra ce sa io non me ne accorgo mai Mai Che zitto c'è? Ma vengo a Roma a portartelo Oh si vieni ti aspetta la gamba verde Si ma è sempre in un multiplayer André Eh no sulla One S Eh 6 a 60 No è caduto è caduto giù dell'acqua il pallone C'è un altro guarda chef tieni No ma volevo fregarvi di sperarlo Lo butto anche qua e sto giù dall'acqua Dopo ho butto sto pallone Eh e lui è finito fuori dalla mappa E anche questo giù in acqua No ma c'è arriva tipo un umegalodonte Posso giocare anche sull'acqua Vedo me c'è una renna col naso plurrescente Tutti i mesi pago Netflix, Prime, Disney Ma intanto guardo voi come cazzo è Me lo chiedo anche io Radu Buonasera arrivo adesso dalla Beto ho preso un sacco di schiaffi Mi fa piacere Marta Mi fa piacere E' bello Mv2 però raga io ripeto non valuto il gioco per il multiplayer Perché non ci ho mai giocato Quindi Il multiplayer non fa un gioco Ma non fa un gioco Con tutti quelli di adesso Non fa un gioco Raga il multiplayer serve solo per livellare armi Basta O per divertirsi e prenderci Divertarsi e via O per divertarsi con gli amocci Insomma Certo No No Guarda io la parte voi condenate il posto La vattene con la tua faccia Ren domani vado in banca con un 90 denari in testa Se sparisco sai perché Perciò C'è il team esattamente qua dove scendiamo noi Giriamo, giriamo Ren Gira, gira Ren Gira Vanno a quello Vanno a quello Troppo tardi Eh, gira più avanti Vai Eh, ce la vai Vabbè Provo a prendere un'arma qua Ci troviamo Non c'è un'arma 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 Allora Lo ho messo giù Occhio c'erano altri Io Almeno due qua Uno sta arrivando dall'angolo lì Sono armi da lungo io ho visto è nell'angolo dal ping azzurro di cesa gira destra sta girando la testa nel capannone sicuro a terra a terra qua bravo vado a push c'è l'altro fuori a terra vai è l'ultimo grazie quello è vero stavo fumando scusa mi ha attaccato al labbro era troppo che non gioca per poco non muoio questa cosa sono nel capannone qua prendermi un medikit qualcosa passi fuori passi fuori che cazzo è est 80 c'è un full team qua dentro ho capito chef ma perché si è andato là in fondo perché sono andato a prendere un medikit mi ha messo a terra non c'ho niente eh vabbè ma c'è c'è ci sono terra terra uno quello che ha fatto è fuori erano un full team lead a te chef ne ho visti tre io quindi non so dove il quarto però è fuori mi sa fuori assiste eccolo sta entrando adesso è sulla stessa linea di tiro come due polli cazzo 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 prova venì prova venì ci ha dovuto finirmi a me no non il giro cazzo di problemi hai vai cazzo cazzo muoio pensavo arrivava ecco muoottor eh muo arriva certo hai perso ma vaffanculo hai perso quei 4 secondi di res livello 118 E' a sinistra Questo ha dovuto confermare ogni persona che portava il prezzo Si ma cittano questi raga Si si, 118 qua non può fare 170, 118 e l'altro non segue Te lo dico io che questo citta Si col pompa Ho già segnalato Tutti in testa anche a me Tutti in testa Segnalazione completa Anche il nome Sbch88 Così scritto proprio a cazzo No Non avete visto la kill che ha fatto adesso Si si citta 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 Sta quitando infatti Ha appena quitato ha fatto una kill assurda Ha quitato Arrivo a prendere un attimo un goccio d'acqua Comunque raga Questo code è bello Si è E' molto bello Aspetto agli ultimi è veramente una manna Gli ultimi code Facciamo un cagare No No vabbè tu è l'ultimo Multi io l'ho trovato bello No no credimi Guarda io li ho giocati tutti Questo è proprio bello eh Ancora più bello di quello di Cold War Di Multi Questo è proprio un vecchio code Con Col movement Comunque è moderno Moderno Ah allora Ancora non l'ho provato Ok Comunque ci stava quello Appena siete usciti E' andato diritto dietro una cassa Con uno fermo Senza è Ha sparato Senza proprio Neanche mirare eccetera E' tutto in testa gli ha messo E poi ha quitato la porta Ma Voi vi rendete conto Mochetto ho sentito parlare E mi son ricordato che sei vivo Gil Vi rendete conto che noi abbiamo fatto Quando era Due o tre anni fa No due Sì tre anni fa forse Al mio compleanno Ho invitato tutti in maresana In piscina da me A fare La festa Con tutti i pabbaggiari Con cui giocavo Con cui giocavamo noi Fra di noi E il Gil è l'unico Che non è venuto Uuuu Che merda Merda C'è Che forse è quello più lontano? No Dove c'è Giulio abiti praticamente Ma va Io gli farei donare almeno 10 tambi Un'ora e mezza di strada per arrivare lì Eh Eh Allora Princess Un princess viene a treviso Sta lì due ore e se ne va Diglielo Mitch Diglielo Mitch Come Come se fossimo al bar Diglielo Mitch Diglielo Picchialo di Ocane E' leggero E' pieno eh Questo edificio qua Non fate come Gil Che scappa Ammazza uno Poi scappa da noi One shot e inizia a rubare tutto quello che trova in giro Ok Vanno all'ultimo Quello al ping rosso Io vado al ping qua No dai Ero salito E te te Non devi scendere sul tetto lì Gesa No non c'è un cazzo sul tetto No non c'è un cazzo sul tetto Grazie L'ho scoperto Che staccia di armare che sta sparando Dp Ah Dp ok Guarda c'è una memoria ormai per i rumori delle armi che è clamorosa in sto gioco Eh vabbè io sono da nuzio Però Ma c'ha fatto io Io non ho il pompa più che altro Non ho il jubo più che altro C'è un s12k che potrebbe essere molto utile Ho un uzi Ho un uzi Ho un barrel Ma ho solo 30 colpi Mi lasciate dei set Vi hanno No ma in teoria la casa qua accanto possiamo andare eh Io non ho il jubo raga Non ce n'è jubo Non ce n'è jubo Non ce n'è cazzo io Non ce n'è cazzo io Però è una molotov No è una molotov Una smoke Dovrebbe essere quella dopo Dovrebbe essere quella dopo Che cazzo E se erano un po di 5 Ok Oh L'ess Si vuote Lasciami qualche set eh non ho pochi curiosi no ne ho 30 io audio ne ho solo 30 sono nella casa accanto teno dei 5 sopra cacchino olografico un elmo che paura non ho sparato nessuno io ma non ho sparato me non riesco a vedere uno sul tetto la matte guarda ti mette il ping ok e uno stanno affidati con quelli dell'altra gata a ping verde tirala fuori la testa di nuovo che ti becco in pieno c'era un per 3 sotto in una stanza l'hanno fatto con la granata con la ping verde ce l'ho ce l'ho andiamo a pisciare ragazzi stanno andando vaffanculo no è andato fuori entra ha rimbalzato sull'asta a me mi ha fatto fuoco amico comunque eh si sono andato a mezzo madonna regà autio 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 no 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 bombardamento 5 perché mi ha chiuso la maledetto il 4x mi ha levato si maledetto tutto mi avete inculato occhio che sto qua subito a sinistra sul tetto sull'altro tetto non li vedo a me sai che l'hanno fatti eh no no ho sentito i passi sono nell'edificio di qua ok vedo uno qua sopra andiamo a push anche loro ho un esteso per la ma ci vedono da qua se uno mi dovrebbe mandare dall'altra parte no uno l'ho messo giù con la granata ho confermato anche pushiamo pushiamo l'altro l'altro sopra a terra ma dai ma non ci credo scusami ma è tua come kill però l'ho sparato ma come cazzo hai fatto prenderla c'è una kill tre assist c'ho porco due adesso va bene tutto è morto l'altro l'ultimo uno l'ho fatto io se il vostro è morto subito li abbiamo anche a scu la regola ho un esteso per sto andando a scu l'ho devi sta calmo però devi sta calmo devi sta calmo audio moto moto vss rega è è un vss che spara ok no 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 è lontanissimo vedi che non si sente neanche il rumore mi serve un giubbo raga ce l'ho trovato perché il vss è stra infame il mio è finito è stanco si è un vall rega stava fermo a guardare l'angolo mi ha fatto cagare in mano cioè con la testa contro il muro proprio fermo ora c'è tu arriva arriva l'altro è sopra visto sta arrivando da qua da me ma come fa a prendere questo con il suo vss dalla montagna vai 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 ci sono vai non è qua abbiamo lo trovato dai basta ma a te basta però vabbè tu ma dai ma è mio un paio di cazzi è mia ma inculami pure tutto no certo certo ovvio guarda te eravamo a trenino non ho visto da dove puscialo puscialo matte va bene resta 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 puoi dirgli però puscialo e poi resta pensavo ma hai esitato non dovevi esitare c'era chef che l'ha sentito sparare e è corso davanti a me non era un livello 500 ma se ci ha fatto prima ha fatto prima loro due si ma dall'altra parte io pensavo fosse da voi ma si ma cesa ma chef ma veramente come fai a non renderti conto che ha sparato un metro da te ma io stavo nell'altra stanza di là a prendere ma era un metro da te comunque che scandalo di giocatore che sei figa ma mo voi siete fatti fare il tre polio adesso è colpa mia no io ero cioè ero fra cesa e matte come mi ha sparato ho provato ad andare indietro c'era cesa ho provato ad andare avanti c'era matte perché no dopo avermi inculato 14 kg ho deciso pure di bo di bloccarmi ovvio no grazie Luca ma no decisione era un fuoco amico ultimi 10 è bello mi piace molto mi piace molto 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 va bene uguale Luca ha bodyblock su T-Ren è riuscito no è valida se abbiamo chiuso Ren a panino capito se abbiamo fatto un bel panino ma è valida quella di ieri sera più con la carnata no ieri sera è in endgame nei primi dieci giocatori v8 50 euro ah ok allora comunque era stata posta male erano di 20 euro iniziali se sciottavi a Ren con una granata poi non mi ricordo chi ha rilanciato no 10 euro a Ren se lo uccidivi con una granata e 21 rilanciato non mi ricordo che io mi sono aggiunto che se prendeva anche a Matte con quella granata ne mettevo 20 anche io quindi i mici 60 fatemi ammazzare e facciamo 20 e 20 30 e 30 no erano 50 totali comunque 50 25 25 mici stiamoci d'accordo era una bella challenger sefora c'è un'ammiratrice qua ma che c'è le pringos nei pantaloni questa comunque ragazzi bisogna affrontare un argomento serissimo del team cioè dobbiamo trovare un sostituto di chef per forza c'è non è non è non è abile poi è sempre strafatto c'è non è vero non so io mi alzo alle 4 e mezza al mattino ma hai fatto 8 mesi di vacanza chef c'è 8 mesi hai iniziato da un giorno e già adesso io faccio domani è una settimana dopo 8 mesi di vacanza dovresti saltare per tanti 8 mesi di stralucido dopo una settimana e c'è sono di vacanza al 5 d'avosto eh non è io faccio come fai ad escere giù scendiamo qua scendiamo qua no sono a sinistra no 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 ping giallo ping giallo raga no giù in fondo in fondo in fondo raga non sono scesi loro in fondo sono scesi all'inizio no ma qua è scesa gente qua guarda dove metto il ping è scesa gente eh eh sì all'inizio esattamente sono morto ma io sono morto oh c'è un diamine defibrillatore io voglio un'arma ah mi sparano questo è già arrivato l'hai voluto il defibrillatore ah sei stronzo tieni 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 voglio un'arma raga 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 un attimo venite su da me l'ho visto venite su da me raga armatevi venite su da me armatevi venite su da me ho solo un ex edifici dopo oh avete rotto il cazzo dovete rompermi se tutto mi avete fregato sempre se ancora non esce ks basta vabbè quello non fa bene fai come me c'è da spara tu proprio che sei quello che non spara mai no spara dai compagni ah ok ok allora sì quello sì quello sì ho lasciato un k2 lì c'è prima voglio raccogliere un'arma qua dietro a terra sicuro sta dietro l'angolo al ping giallo colpo la testa a terra occhio chef non lo vedo tutto lì lo scarama non l'ho visto direzione verde ping verde ok ho visto dietro il sasso più o meno prima prima del k a questa casetta qua la seconda non ho capito ping alla cazzo qua 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 questa casetta o dentro o dietro ho girato a destra io io da destra con chef bozetta da sinistra non lo vedo non lo vedo mitch ok non in questa nella prossima allora si sarà imboscato che ce n'è rivalta mi ha scappato direttamente se mi trovate un compensatore mitra mi fateva arrivare felice eh l'avevo trovato prima eh l'avevo trovato prima porca è deciso che la faccio eh niente guardate che sto infame in giro si sta furbo o scappa no no questi sono infame quello che ho fatto io era bravo subito preso è uscito è ritornato dentro è riuscito in terza piegato c'è è in terza si va bene grazie io ho il calcio tattico se serve matte a te che vi ha detto mi ha mettato eccolo 185 è qua dentro davanti a me l'ho colpito matte matte è sul retro è sul retro morto qua ma ha sparato un altro più da sinistra eh si si mi sa che sta arrivando altro tempo arriva un altro team ma team o un altro player no 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 era chef era chef scudo se non erro è qua davanti proprio si si la 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 spara me faccio il folle eccolo eccolo ho visto ho visto dove mi ha sparato è qua dietro è morta è fatta morta subito ok caccio tattico rennes l'hai ancora si cesa mi serve il compensatore te l'avevo lasciato prima eh te l'ho lasciato là nella casa là verso dove cazzone è il segno di di 45 eri lì con me eri prima che mi sparassero lì te lo stavo lasciando qua spero che non te l'abbiano fregato loro ma te quanto vale il tuo culo che mi va trato è con pezzo 3r si bravo che era proprio l'unica cosa che mi mancava lasciamolo che schifoso bastardo mi serve la cartuccena per scato avete un medikit per favore una fettina di culo no eh no il silenziatore R bella ma te buonasera di malò un medikit di 9mm che sennò io ho bisogno di un 4 qual c'è un medikit da me 4 qua te lo pingo sul cadavere del ping rosso minchia chef non capisci un cazzo di sto gioco si è diventato pure dal tonico oh la safe è per metà fuori dalla mappa molto bene Ren dove vai? è buono lo so cercare gente ho una kill e due assist di nuovo oh 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 desinca venga qua eh lo sto dite Ren dove vai? prende a 3 eh eh va bene andiamo a cercare un veicolo vabbè ah ma perché tu stavi contando chef nel team non c'è il fatto eh lo preso io non c'è il coraggio di lasciarmi qui io sto qua che cerco il 4 per è incredibile siete riusciti a inculare una roba chef di solito regà razzola qualsiasi cosa ma vi ricordate cesa le prime partite che aveva 4 coprifiamma 3 impugnature 36 caricatori diversi si 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 mamma mia cosa facciamo? adesso viene in mezzo perfetto io ho una chiave segreta se vi può interessare allora vengo lì la prendo sali su con noi e siamo lì chef eh vieni qua vieni che c'è un 50 vieni ho fatto lo stai lo stai lo stai oh e dopo mi fregono lo stai lo stai lo stai attaccato niente ci tocca via questo matte che uomo di merda no 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 vai vai a prenderlo vai a prenderli che uomo di merda ho trovato la moto cesa ma come? sa che è meglio che però la guido io no 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 come sono pericoloso sono sicuro io sono sicuro ho anche la patente della moto andiamo anche se questa va un po' più forte della mia guarda che liscia l'albero che gli do lo slalo lo slalo mo pieno di macchina io voglio quella moto lì aspetta che gli buco le gomme no no io ti spargo no 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 dai integra integra oh ma ma hai sparato veramente schifoso dai scendi aspetta 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 io mi ha dicendo che abbiamo ammazzato matte no io so senza parole matte cosa stai facendo dimmelo lo so perché matte è cominciato a chiamare se ne è venuto a stos no 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 lo sapevo aia aia eeeh chico sta arrivando la save sì noi stiamo nel gruppo esatto noi siamo al limite o dobbiamo arrivare a studio siamo a istante a studio radio ci siamo mai andati ci siamo mai andati a studio quando non c'è gil andiamo a esplorare altre mappa è vero che prima rompeva il cazzo che voleva esplorare la mappa eccolo perché io sto andando l'albero bam roccia ti immagini matte hai visto che cose belle io che faccio non prendo gli alberi non è vero io stavo seguendo la linea allora hanno fatto un giro loro vai vedi che stiamo girando verso la destra della safe io stavo seguendo la linea allora ooooh 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 se c'è venito da noi aia prendi la macchina prendo la moto anch'io aspetta vieni 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 i bikers oh dai scherzando no Oh ha lasciato me galo d'auto a sinistra No ma ha lasciato me galo d'auto di qua raga Raga la macchina mi sta tallonando Vieni da noi, vieni da noi Facciamo una trappola, portala da noi Fermiamoci qua raga Mi sono fermato un po' troppo Anche tu Vabbè andiamo in load out allora Ma ce li sta portando quindi Mi sta saltando sopra L'ho messo giù Mi sparano altri Ah no riserte, i colpi di vimbalzo scusa I vimbalzo colpi Qua c'è un per 4 chef No ho trovato un per 6 Andiamo Voglio andare giù in fondo a quelle A tutte le casse che c'erano là raga Non c'è nessuno a usarlo dopo Voglio il giubbo Le robe Dove ho lasciato la mia moto? Qua Andiamo Spiero Aspetta Vai a buscarle come di stamattina Vado E' mio il load out, è mio? Io Non c'è niente Come non c'è niente? Era Non c'è più niente Non ho preso niente io Non mi hai guardato io non ho preso niente Ma te ma che domande facciamo? Sei incurato tutto matte C'è il per 8 qua C'è il per 8 qua C'è il per 8 In questa cassa Guardami C'è un per 8 Che uomo di merda C'è anche un kit medico Se qualcuno serve Sì a me A me Ma sono scese 18.000 casse Dove sono finite tutte? Ma 9.000 Ah qua Qua dentro c'è la granata Io avevo bisogno delle 4 Delle 5 Le 4? Sì Qua ci sono le 5 C'è un altro drop là Dove? Là Un altro di quelli grossi grossi Là dove? A più in grosso Oh mi hai rubato la moto Un paloso Armate mi hai colato la moto per rubarlo d'alto Ma c'è un altro Capito? Quella era la mia Questo è un bel drop Niente Io mi continuo a caffottare Andate nel metà 3 C'è tutto C'è tutto il 3 Ok Un altro giubbata 3 Hai spaccato la Qualcosa Cosa Cosa La macchina mi hai spaccato Elmo il 3 Qua da me Ha preso la discesa Di là c'è la mg Sarebbe la quarta nostra moto Raga Sono in due Sono in due Via da qua raga Via da qua Via 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 Chi si raccoglie la moto vince Via Chi si raccoglie la moto vince Oh la ma Ah vigliacchi Ho spaccato Niente la mia macchina E' una lì a destra Eh ma la moto Me l'hai buggata È strabuggata C'è una macchina dietro di me Aiuto Io non ci credo Raga Hanno fatto una roba Fuori di testa Mi serve la smoke Su di me al volo La smoke Cesa scendi La smoke Cesa la smoke Eh È proprio Devo proteggere Con l'alto Eh va Mi ha ragionato Raga Tu la collina Ma dietro i gesti Ma 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 Guarda Ma chef Cosa sta facendo Là in fondo Mi hanno Un'asciottato Per me Ma Raga Però Porco Dio Così ogni volta No Pietra e cespugli Questi Porco Detti Sparano Ma come Cazzo Fanno Ma Stiamo Scherzando Ma Stiamo Scherzando Andrava un Toro a Pamplona Mamma Voi non avete capito Come sono morto Io Raga Mi ho speronati Con la macchina Ecco a me Mi hanno Asciottato lo stesso Allora Non avete capito Come sono morto io Sono finito Sotto la discesa Con loro che mi sparavano Loro ho detto Passo su dalla discesa Loro erano già sopra Mi hanno centrato in pieno Ho iniziato Ho iniziato ad andare Tipo a quattro Allora E mi hanno Shottato in moto Incredibile Incredibile Avevamo Tutto Raga Pone Le maturie Carna Ho sparato dentro Sotto la discesa In mezzo È normale Sotto erano due in macchina E due erano già sdraiati In mezzo Allora C'era quello che ti ha ucciso A te All'ultimo Chef Che mi ha sparato Da città In mezzo In mezzo In mezzo In mezzo E c'è spugli Esalmorente silenzioso Chef Il po' cudente Cosa Lamentino Scammatore Cosa Lamentino Scammatore Penso Sei te Matt Ren L'inutile Pusciatore Io mi dissocio Da porze Comunque Ti accoppi Con porze Non mi farei rispondere Magari Direi Però Mi dissocio Da quello Che dice Io non ho detto Niente Guarda che Sto geloso L'hai detto Te L'hai detto Dopo Potrei fare Capitato Mamma Litigare Te lo dico Fanno le botte È stato Chef A mettere In bocca Mia Quelle parole Io non ti ho messo In bocca Io non ho detto Niente Io faccio Questo e stacco Perché sono Cotto Stanno litigando Per forze Saffilo No Non ho detto Niente Tanto le foto Le manda A me Mica Poi Forza Che foto Mandi È troppo tardi Matteo Per il balletto Speciale Che dice Speciale Il balletto Colorito Il balletto Dell'arcobaletto Lo chiameremo C'è un team Che viene proprio Il nostro Pieno È pieno Leggente Scendiamo Da questa parte Della strada Regà Sì Sì Di qua Che sono Dati tutti Lunghi Prendetevi Una casa Qua Ho preso Uno No Mi perdevo Tutto Ciao Cosa Sfiga T'ho preso Guarda Gente vicina Maraghan La gente Anche da quest'altro Lato Proprio dietro La prima fila Di casa Di là Della strada Pratica Petri Adesso ho fatto Sono un coglione C'è uno Qua dentro Uno qua dietro Vabbè 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 Penso Oh Qua dentro Qua dentro Da me Qua dentro Stai finestre Ce la stavano Inculando Ti ho Stavano Non ho più colpi Ci stanno Pushando Eh Ho bisogno Di sette Devo andare Mene da qui Sono morto Ho messo Un merda Di c4 Un merda Un merda Uno esattamente Qua dentro Non lo vedo Dalle finestre Sopra E sotto C'è una smoke Audio audio Ci busciano Ok l'ho visto Vicino alla casa rossa Ping rosso Sono fortissimo Ma li ho anche qua Da me Siamo in mezzo Due team Due in mezzo No è qua sulle scale Col pompa Fermo Regà Non ci credo Questo tubi Che c4 Mi ha ucciso Al pompa Chef Ma dove c4 Ma guardate Dove era Era dietro Il furcioncino Il furcioncino Basta raga Io vado a farmi due partite Su quel mio giochino Balato Era sul tetto E volevo salire anche io Sul tetto Ho sbagliato Guarda Su tutti i detti Ah c'è sta C'è sta Pensando sul tetto Ma doveva fare due partite Il mio giochino malato Adesso C'è Big Cumber Ma dal cazzo Mi sparava dal tetto Big Cumber Sì Big Cucumber Si chiama Grande Grande cetriolo No no E' un cetriolo Cucumber Si sente un cazzo Però questi saltano Girano su se stessi Fanno un macello Però ne i senti Boh vabbè Che bello Madonna Come si muove Ho fatto spavento L'altro si chiama Big Bananas Eh capito dai Ho dovuto fare Una carriera nuova Ragazzi Su sto gioco qua Perché sono fallito Malamente Ma che gioco è? E' un gioco malatissimo Però adesso sono Affiliato a un esercito Strapotente Abbiamo fatto una battaglia Regà Porco due Sto diventando un multimilionario La battaglia La battaglia La battaglia E' bellissimo sto gioco Cesare Bella 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 Ciao Iniziano i porno sui telesette gold Esatto La bustarella Allora Aspetta che devo vendere un po' di roba qua Guardatelo un attimo Cesare Perché Ma è tipo No 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 È similare però Se hai in prima persona Poi hai deciso Quando combatti Cioè combatti poi in prima persona Non c'è niente Non c'è niente in che fare Eh hai capito Non capisci un cazzo Però No Come struttura di gioco È come Jason Pai Perché devi costruire Devi comunque farti i soldi Devi comunque mantenere Un pil Per la tua roba Devi comunque avere Il cibo I soldi No però nel senso È un modo diverso di giocare Questo Sì no poi è un modo diverso È la prima persona Unisce Sì unisce le cose Il fatto della prima persona È fotonico sto gioco Cesare E poi il fatto che Puoi comunque farmare Non so neanche come chiamarlo No Non Non mi dico E Jason Pai Tipo è uno strategy Sì è più strategy Dove farm e strade Devi fare strategia Invece qui Invece quando combatti Quando combatti Qua invece vai in prima persona E proprio sei Diventa un 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 Non è più un Una strategia Che tu comandi Guarda ti faccio vedere mo Guarda Cesare Guarda che roba che è Eeeh Le battaglie sono clamorose C'è Aspetta che ti faccio una roba No te la stremo su discord Che almeno Lo vedi Lo vedi live Ma la grafica è clamorosa La grafica è clamorosa Sì Qua io lo vedo in 730 Con 30 fps Eh sì Beh allora guardatele in live Dove sono loro Ah ma abbiamo pure gli alleati Ah 222 Ah no ok Stanno già attaccando Con la cavalleria Loro Con 39 40 cavalieri Già stanno Ah ma io ho pochissima vita No Me la devo giocare A stra safe Sta battaglia Perché è mai così lento Perché sto guardando Un po' di roba Guarda 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 Che roba figa Vabbè loro sono pochissimi Ne ho fatta una C'è una 1100 contro 1200 C'era Adesso qua siamo Noi 600 E loro 200 Tipo Gira lì il link Di quello lì Che ci hai fatto vedere Ieri live C'era 2000 persone dietro Vai via Quello live C'è guarda che roba Guarda Scusami Ma guarda Mi sa che sono un po' Più di 200 Ma poi anche i rumori Cioè sono fatti Troppo bene Via 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 Bannerlord Aspetta Ma ve lo metto Almeno scrivete Playing Aviation Mount e Blade Due Bannerlord Eh, costicchi, eh, perché sono 40-50 euro di gioco Però, regà, se vi piacciono questi tipi di giochi qua, cioè Perché va a mischiare un po' tutto E poi i combattimenti sono stra-reali Adesso io qua non sto comandando l'esercito, vedete? Lo comanda il generale Ma fanno tutte le formazioni Fanno formazione testugine Vedi qua, per esempio? L'abbiamo fatto anche l'ultima volta, sempre qua Me lasciava giù i soldati qua e sopra gli arcieri Che facevano una strage, regà Vedi, tu sposti un soldato Lui si rimette subito in posizione, capito? Guarda Eh? Eh sì, eh Sono proprio biedienti No, ma tu devi vedere Quando tipo sei in minoranza, di solito fanno Quando sono in minoranza, per dirti Quando sei in inferiorità numerica Prendono e si Si chiudono a cerchio i soldati Con dentro gli arcieri Clamoroso Ah, ma siamo noi in meno, regà È un problema questo Mi sa che sono andato a morire Buonanotte, Matte Tra un po' ti raggiungo anch'io Perché anch'io la sveglia a quell'ora Ma ci attaccano È giunto il momento, mi sa Poi io non combatto mai A cavallo Scendo sempre Eh, se riesci due stendate dalle a cavallo Eh, ma perché non ho la lancia Uso la spadina Eh, devi prenderli sulla destra Allora Ecco, l'ho visto Listo E' terriboloso Stava dietro Con una lancia Non era uno dei più simpatici Nooo Ecco, io così stai Ora me ne andrei Eh, 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 eh Oh, poi io voglio andare a pescare Ah, va qui Loro pescano quei cavalli direttamente Guarda, guarda, guarda Sono morto Ecco Eh, meglio dai Eh, ma no Ma perché non avevo vita Sono un coglione Aspetta No, no Meglio non a te che sei morto Intendevo a chef che pioveva Sono un deficiente Dovevo A parlare con entrambi Dovevo aspettare un attimo Ragazzi, non avevo vita Sono andato in guerra senza vita Devo stare un attimo in città E poi andare a dargli una mano Eh, ma tipo, sabato piove dalle 10 fino a Fatto io una cagata, raga Ma vi faccio vedere la battaglia Aspettate Ma per quel poco che sapevo io di pesca Cioè, sotto la pioggia si pesca di più Cioè, si pesca meglio di più Eh, sì Però menti a 14 ore chiusa in tenda C'esa Eh, lo so Quello che mi c'era Palloso Eh, un po' ti vai fuori un po' Ti chiappi anche un po' d'acqua No, poi poi c'ho tutto il keyway C'ho tutto il stivale C'ho tutta la tuta Ma immagino Tanto lo fai come puoi Passione È che mi sbatte Poi devo stare 10 ore sotto l'acqua Continua Cioè, avevo 27% di vita, raga Dove cazzo vuoi andare dove? Il problema è che mi sa che Quelli là li massacrano Loro una marea in più di noi Eh, quello Ma infatti questo esercito qua Mi sa che è esatto Aspettate Hai rigirato verso il tuo esercito Erano 200 persone Mi sa che erano il contrario Esatto Esatto Che eri in 200 versus 600 Hai scollinato cazzo C'erano flotte flotte di loro Eh ma bisogna aspettare che facciano No, non di questo joystick Vedi io Cioè, sono Questo qua è l'impero Di cui faccio parte Praticamente Ma devo aspettare che faranno Sono in guerra con questi qua Vedi? Sono in guerra Io praticamente sono con sti verdi qua Che adesso sono in guerra con sti Tutte ste famiglie qua Gli arancioni praticamente Poi se tu ingrandisci però Vedi quante cittadine ci sono Ci sono le cittadine I castelli E le città proprio Sono tutte Cioè, sono tutte CPU Comunque sia relativamente Sì, sì, sì Da quel che ho capito C'è anche il mondo aperto Ma con il mondo aperto Figo Il mondo aperto È stile Warcraft Eh sì Così sarebbe tanto Eh lo so Ma io adesso sto facendo questo Perché prima voglio imparare un attimo Eh no No, fai benissimo Fai benissimo Anzi Dovrei avere delle missioni Dovrei andare a parlare Con tutti i nobili adesso Perché mi devono spiegare Magari quella Immagino sia la cosa più pallosa del gioco No Vai Cioè, fai Mettila Tipo, vedi Io dov'è che vado Vado Dov'è che è qua Forse Tac Metti la velocità per 3 Nel mentre trovi un paio di briganti Li uccidi Ecco, sbagliato Mi hai abbandonati i briganti No, li trovi in giro Eccoli Per i predoni Vedi Ah, 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 ah Esercito 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 Sì, li trovi in giro Andiamo dall'esercito subito Ah, i predoni Sono quelli che prima ti regalano Vedi Poi loro fanno l'esercito E tu ti aggreghi Quei tuoi uomini Dove sono io? Ma tu puoi fare i predoni? No Ma tu sei in terra nemica al momento? No, no, no Questi qua sono tutti neutri Barra Quando è così puoi girare liberamente Quando sono rossi Devi stare attento Perché ti arriva la truppa Ma tu comunque Se ti arriva la truppa Vedi come se stiamo No, sì, però Sì, però attendo C'è l'idea al momento Sei sul territorio di un'altra fazione Tipo qualcosa del genere Tanto un altro colore Dal tuo standard Tu hai il standard di novitro Sì, sì, sì Ma non sono neutri Non succede un cazzo Quanti sono? No, 249 Vabbè, uniamoci adesso Quindi è arrivata a 269 Sì, no, ma Ne devono arrivare ancora Va bene Reclutiamo tutti, ragazzi Ci servono il più uomini possibile Anche perché Più vanno avanti Più vanno avanti Più si aggiungono a regola Si aggiungono Allora, infatti tu Quando ti aggreghi un esercito Sei sempre salva E se la situazione va Perché se tu muori Perdi tutti i tuoi uomini Devi ritrovare tutti gli uomini Cioè devi ricomprarli È un casino, hai capito? Cioè ti fotti praticamente Per quello che devi salvare prima Infatti c'è una modalità Sempre di sto gioco qua Che si chiama tipo Super Super hero Una roba del genere Dove tu non puoi salvare L'esercito di Ora il regno è in pace Vedi, hanno fatto pace Per esempio adesso Hanno fatto pace E non sono più in guerra Quindi l'esercito si è sciolto E tu torni a farle Il tuo cazzo di robe Fondamentalmente Ma tu al momento Quindi c'hai 21 soldati Io sì Sì ma perché Non ho Non ho una cittadina Eh ma no Perché più Più truppe hai Più paghi Più devi far robe E beh è normale Un casino Eh come devi guardarla Come se fosse anche Come una grande azienda Cos'è prendi i dipendenti E non li paghi? Lì si rivoltano Ti danno le spadate Le sciabolate nella schiena Non è che ti insultano le spalle In effetti Dove è che sono andati Sti predoni qua Erano 14 Mi sa che se gli hai promesso Tre monete d'oro Gliele dai Vedi tu adesso Insegui sti predoni qua Ah Quanto corrono Prima o poi Sì 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 E la sostino Ogni tanto la farete Dai Su Il tuo rapporto È migliorato Da 8 a 9 Va bene Te non si fermano Sti bastardi Oh Ah vabbè Ma c'ho anche I 57 alleati Ma vaffanculo Non la faccio neanche Sta battaglia Vedi poi Se la fai cosa ti porta Niente La simulo L'ho simulata adesso Semplicemente Ah ok Sì perché Nel senso vincendola Nel senso non ti dà Sì ruby Eh ma perché Tu prendi la roba Di quelli che uccidi Praticamente Loro erano Sono in 57 Mi alleati Figurati Bastare I buttei baresi Hanno tutti la trocca No 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 vabbè troppo pochi No però adesso Volevo andare un attimo Perché ci impiego Eh perdone Ci impiega proprio due secondi A farlo Questi Perché sono rossi Adesso 104 però Ma perché sono rossi Adesso cattivi Penso sono molto cattivi Se gli dai fastidio Ti danno quattro zampogne Sì no ma vuol dire Che hanno litigato Con qualcuno Vabbè Eh non ti ci mettere Anche te Hanno già il sangue Che bolle Loro Tac 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 E Tac Fatto Allora Scusami ma noi Con chi siamo in guarda Adesso Con nessuno Nessuno è rosso Gli hanno fatto pace Con quelli Gli aseri Kazzuti Gli hanno fatto pace Noi siamo i cuzzati Noi siamo i cuzzati Allora Una spada Ben bilanciata Sconfiggere Vincere una gara Forge Improvare l'arte Tiratore scelto Comerciare Comerciare Mercante veterano No perché devi Ma questi Chi cazzo sono Alleverai tanti Piccoli cecchini Solo piccoli cecchini Solo piccoli cecchini Hai vinto Tutte le guerre Tutte le guerre Non fai avvicinare nessuno La cosa che devo capire io È con chi cazzo Ho parlato Di questi qua Cinque su dieci Abdull 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 Te lo dico io Ben dichiarato guerra Chi Ai blu Buono 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 Mò fanno l'esercito Si va a combattere Beppe Ecco Ha radunato un esercito Vedi Vabbè intanto Facciamo fuori questi In due secondi Ci impieghiamo Almeno ti faccio vedere Un po' il combattimento Quindi qualsiasi Sono i miei disperati No loro sono tipo C7 Cerchiamoli Buona notte Sheffalo Buona notte Sheffalo Buona notte Sheffalo Aia Agile Bella Agile Hai ma c'è ancora Agile Ce sarà parezzato Ma che bro E però anche te Sei un pochino cattivo Vai In 18 contro 1 Eh patate L'ultimo potevi lasciarlo Viverlo Ma corcazza Tornare dal suo regno Ma corcazza La tua storia Eh Vedi Ma andiamo qua adesso Ma Spero che però Non hai perso uomini Ok no 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 Se 26 contro 5 Perdevi uomini Quello era uno scandalo Cazzo Rennicus Neppa Mi chiamo Rennicus Mi ha perso Devi tempo Era un tonterato Ok 148 Mo vedi Tempo di arrivare Lassopra Se fanno le cose bene Ci ficcano dentro Una marea di soldati Allora Qua che cosa Che dovevo modificare Perché poi c'è anche Ovviamente le robe del Meno più 15% Più 4 Volecità di movimento Per il troppo Di carato 3 O superiore 10 Maneggevolezza Delle armi A piedi Più 10 Maneggevolezza Delle armi Della fanterina Nella tua formazione Direi questo Adesso a regola Dovrebbero arrivare Piano piano Tutti gli eserciti E aggrupparsi a questo Perché in 148 Non vai da nessuna parte Di solito fanno Un 500 600 Almeno Gli eserciti 13esimo giorno Della primavera 1085 Listo Wow Mi sento Immerso Nella storia Vedi questi qua Ma dove vogliono andare A Qua sopra Vogliono andare Perché vogliono andare Lassopra Se mi saluti Ti mando 50 euro Di sberle Mi devi dare Oh Stavo a parlare Con Cesare Raga Ero concentrato È colpa mia ragazzi Ho una voce Avvolgente È bellissimo Sbato il fortunato È il mio socio E la marca lo squalo Ok Sbato il fortunato Non avevo salvato Ho fatto la prima battaglia E è morto Subito Ho detto No Sì sì Sono dovuto andare Oh Vedi adesso Ma perché Non vi unite A questi 1052 Infatti faccio così E diventate 1152 No Non so Dai Avete capito Ma vedi adesso Si unire Ritorno indietro Anche 120 Ok Puttaglielo da dietro Questa era una di quelle Con cui dovevo parlare Perfetto Entriamo nell'esercito Stiamo assediando Madonna Motive di una battaglia Motive di una battaglia Non ho mai fatto una sedia Ma dei video che ho visto È No Uno invece l'ho fatto Di assedio Ah ma loro sono pochissimi Mai dire mai Oh cazzo Porco due Tra in un colpo Me ne hanno ammazzate Ma con cosa Penso che Stiate facendo un assalto Al castello Mi sa Si si ma adesso Io guarda Io sono Quindi ci saranno Sicuro Gente dalle gole Dalle feritoie Io sono un uomo Sono un uomo Di mondo Si Ah vai dietro La rietra Ok No no In prima fila Io mi metterai In seconda Almeno dai Le probabilità Che ti pigliano Ci sono un po' più basse Hai ragione Forse è meglio Se mi metto In ultima fila Vedi E se io mi sposto Dalla prima fila Ce n'è uno Che va in prima fila Poi di lì Capito Che dovrebbe Perlomeno No 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 Ci vanno Che è quello Che è bagato Dietro di te Che corre No no Ci vanno Ci vanno Dopo un po' No 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 Sto giro Sono davvero pochi Però ci stanno ammazzando Un sacco di gente Non ho capito Perché ha fatto andare Gli arcieri sotto Così a sgonfio Madonna è lunga Fino lassù Eh Eh si sente Che mancano Però eh Eccolo guardalo Ho capito No 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 ma secondo me È proprio quello Che si è bagato Dietro di te Sì Vabbè Si bagga Si bagga Dai Non è possibile Così ragazzi Capite che non solo Warzone è bagato Anche altri videogame Hanno dei bug E negli altri videogame Anzi a volte Sono anche belli Vedi Cioè Cosa mi sa Che ci fa una brutta fine Madò Quella rietone Lì davanti Puntato lì Così proprio L'ultima volta Che sono andato Sono entrato in città Poi che c'avevo Una freccia nel petto Una nel braccio Porco Due Ultima volta Che ho usato L'ariete Ah ma cazzo Sanno Le balestre Eletriche Loro Poi le prese Su Aliexpress Non va bene Credo che Vengono scioltati Tanti Ci siamo Hai visto che S'è giunto L'adavanti Adesso S'è giunto No 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 S'è giunto Perché avevo appena fatto lo switch La live discord La live La live Normale Per smaltire un po' Gli occhi Anche Fizio Madò 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 Ma do 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 date prima voi porco due dai fatemi passare ma voi siete matti figa guarda come sono lì ad aspettarci questi di cattiveria porco due sfondare uomini non hai fatto uscire dal gruppo figlia lì da dietro madonna ragazzo troppo forte sto gioco mi piace troppo ve lo giuro mi sento male io quando gioco sto gioco qua vi è vinto ok ok va tutto anche se è stato conquistato da un esercito di cui fai parte a bagai garantisce su uomini consueto diritto di razzia dopo un assedio portato a termine con successo contende loro di approcarsi di ciò che vogliono la dimora del signore c'è un punto esclamativo eh sì perché vuol dire che c'è magari qualche missione da fare dentro che allora che cosa abbiamo ancora qua questo 10% danni inflitti tra le due truppe nelle simulazioni in terreni nevati e nelle foreste direi questo subito senza pensarci due volte vedi sono 956 questo sì che è un esercito con i controcazzi porco due questi non li voglio lasciarmi andiamo ad assaltare madò qua si fa una battaglia tosta adesso eh vuole fare un altro scegli al castello sì ma questo qua non ce lo lasciano perché quello lì era più piccolino questo qua adesso ci arriverà un mega esercito addosso 100% e picchiamo noi mi sa più e due per cento bonus velocità di movimento nella steppe nelle piatture nelle pianure una volta al giorno più 50% di possibilità di aumentare di uno il rapporto del cran con uno 10 per cento bonus campo visivo una volta al giorno 5 per cento di aumentare di uno il rapporto del cran con uno buonanotte zeno buonanotte anche a te pautia non ho capito se vai a dormire o no sì no penso di sì ok mostriamo a fare l'insediamento strano che non vengano ad assaltarci di solito arrivano subito cioè non ti fanno a fare l'assediamento di solito devo fare così da qua devo stare così qua metterlo che vedo anche un po' della tua chat sono 300 loro poverini ok già questo sarà un po' più sofferto mi sa si ma te ne fanno fuori una cifra all'inizio eh beh sì dovete arrivare al castello anche perché qua vedi che è già diversa la situazione poi è bello anche per questo no? ogni punto l'ambientazione è diversa la mappa è molto varia sì ma infatti il gioco è 50 quasi 60 giga se non mi ricordo male cioè non sono pochi comunque ma c'è struttura vuol dire che ci ha lavorato parecchio io mi metto qua un attimo che vado a prendere la sigaretta mentre loro scontro porco due ce ne ha presi quattro in un colpo ciao Pasqua lì eh no perché usano il balestrone quello là sopra lo vedi sì sì madonna ce ne stanno facendo vedi il rosso a destra sono quelli che ci fanno fuori loro sono tantissimi sì sì c'hai dove? ma perché avete un sacco di danni nell'esercito un sacco di truppe d'assalto diciamo e pochi arcieri sto vedendo poi vedi lo scudo lo imponi tu l'altezza anche in base alla visuale anche gli stessi colpi con la spada se tu fai il colpo con la levetta lo tiri in alto o ti fa il colpo verso l'alto se lo tiri in basso c'hai capito è tutto guarda che ti tirano addosso pure i si adesso andate prima a voi eh noi abbiamo un po' che ci aspettano ahia ahia porco due ne sto prendendo un carretto porco due che frappa che gli ha tirato questo madola ha streccato con un colpo comunque non puoi andare contro 5 o 6 nemici con lo spadino di proprio dio mi dissocio e non è lo spadino no è forte perché questa è agile e fa danno pagata un fottio l'ho pagata dove scappate ahia oh ma sono rimasto solo io qua abbiamo vinto madonna guarda che figata però sembrato un branco di forniche veramente guarda come corre guarda come corre quello laggiù guarda questo vedi che poi senti anche che combattono lontano cioè non è fatto benissimo ci hanno fatto molto bene questo si sta scampando nella fortezza bene abbiamo vinto a me purtroppo non mi piacciono molto i giochi con le armi antiche diciamo e sai che a me invece tanto cioè l'unico che mi piace è il gioco Empire o Empire Earth ma perchè sono pure strategi che vedi solo dall'alto e quindi devi stare lì di testo e basta certo se no non mi... cioè mi piacciono vederli ma non mi piace giocarli mi annoiano dopo un po' non so il perché anche Skyrim per farti capire solo perchè c'ha l'ambientazione medievale così già mi annoia allora no ho sbagliato porco due sono entrato nella taverna eh figo però vedi sta roba che puoi entrerci nella taverna tutto nella fortezza del signore oppure nella città a far propri giri c'è un sacco di robe da fare vai all'arena si e fai combattimento nell'arena proprio per guadagnare onore allora io entrerò adesso in arena classificata no ma c'è ancora Jill pure si ci sta aspettando da sotto zitto zitto non dice niente no sto giocando allora voglio un paio di stivali 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 provo a farlo anche io a giocare con lui sotto ma sarà dura che mi distraigo io volevo fare due partite prima di andare a dormire anche ad Apex sto rancando un sacco ora su Apex si sono arrivato a oro oro due quasi sto diventando un pro player sto diventando un pro player sto diventando un pro player come no che poi ti chiedono i favori no mi servono cavalli mi servono quelli e tu se li fai più velocità fendente con una vabbè ti guadagni naturale esatto abbiamo pochissima vita questi stanno facendo proprio assalti via intrippa maledettamente pista sto gioco come vo vo de maledetto ciao ci sta comunque almeno ci stacca anche la testa da idrocchi fps si ma mi stanno un po' scarsini questi non stanno apponendo resistenza cioè sto assalto qua con 200 contro 800 non lo faccio neanche per diritti se non arrivano no 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 vittorio no 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 aspetta che ci sono una marea di gente che brutta fine mamma mi deve essere proprio brutto comunque chat fare le botte nel medioevo eh si è era un motivo perchè non vivevano a lungo ma ho quanta roba che ho guadagnato con stuola ah io ho bisogno di fightare sennò non mi si alza lo scudo ora ritorno esercito datemi un attimo vi ho abbandonato un attimo non è nulla di che si devo vendere una marea di roba più che altro una vacca no non è abbastanza solo perchè l'ho fatto? ok no 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 così io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo ricordo. Veniva da Montecchio. No, scherzo. Vieni sotto. De Montecchio. C'è una foresta di notte. Sennò si vede un cazzo figa. Il piano è di restare a distanza e tempestare il nemico di Frej. Ma non è che mi faccia impazzire come piano? Tipo questo cosa ci fa qua? Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'entro un cazzo io qua dentro, però va bene comunque. Merda, non capisco niente se sparo mentre parlo. Aia. C'è, ci sono i miei cavalli, i cavalli dei miei... Ho preso tante di quelle tighe dei cavallieri i miei, porco due, che la metà basta. Questa battaglia è stato un vero molto forte, è tutto buio. Sì, è... Eh, ma da stream, da steam, eh sì, è preso anche a discord, tutti sbagliati. Si vede un po' male. Eh sì, perché doversi comprare la versione premium per far vedere le stream in qualità massima, ma che cazzo me ne frega. Non abbiamo trovato di questo popolo qua ancora un esercito degno di nota comunque. Eh, per certi versi meglio perché si trova, come hai detto prima, un cacchio di... No, ma ci stanno quelle tipo da 800, cioè ci sono delle battaglie dove veramente sei magari 800 contro 900 e finisci in 30 contro 20, cioè hai capito proprio... Eh, quelle qua, dopo lì perdi molta gente anche a fare delle truppe, non conviene. Eh, ma so belle da fare, so belle. Eh sì, sì. Magia. 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 Eh lo sapevo Non ci stavo capendo un cazzo Sei morto? Sì E mi chiedo perché Devo seguire della gente così Basta Non gioco più Ho fatto uno Ho perso punti Non gioco più No Ci ritorno domani Ah no ne ho fatti sette Allora posso farne un altro Ok Madonna E beh Finché li fai E' sempre meglio che perderli i punti Ah no Beh quello di sicuro Eh capito Un altro giorno Abbiamo giocato I amatte C'è che lui è arrivato quasi a bronzo Quasi argento è arrivato Perché abbiamo trovato un cheater Ci ha fatto livellare un bel po' Sì Sì Secondo me era un cheater Se il rango era più basso di quello di Matte La prima partita l'ha finita con 9 Kill Eh beh Proprio lui ingaggiava i team da solo Andava in giro Insomma Beppe Lo voglio rivedere Eh La seconda con 12 La terza sempre con 12 Ne abbiamo vinte due No Ne abbiamo vinte tre su quattro di partito Cioè capito Sono molto dubbioso Eh Princess ma Ma tu mi devi spiegare che cosa c'hai oggi Princess Perché t'ho anche scritto su Whatsapp E manco mai risposto C'è Anzi magari mi ha risposto E' un'altra condivisione Amo Quello è un altro conto però Invece non mi ha risposto lui Eh Eh ma allora rispondigli al posto di Matte Vabbè Ognuno fa quello che vuole C'hai capito Mi manchi Quanti sono loro Trecento No non mi spreco Ma no dove li metto io tutti questi Merda son morto Devo stare lì per focus Grado 2 Grado 2 Grado 1 Grado 4 Oh frate mio Grazie per la condivisione Amo Dio bello Non mi avete lasciato un'arma Bastardi rotto in culo Eh anche dei zeta è bello come gioco Siamo ancora svegli qua Dei zeta si ma Cioè dei zeta comunque ti devi anche un po' concentrare capito Sì Qua invece Qua invece c'è Salvo Prendo Esco Sì Molto più tranquillo questo qua come gioco Devo stare lì a A stare attento a non crepare praticamente Cioè sì ma in una Prima del combattimento Prima del combattimento Sì Hai capito Cioè Era proprio quello Devo comprare una nuova spada No la mia spada è straforte Devo comprare gli stivali Porco dolci Gli stivali che sembrano un barbone Sì effettivamente il tuo pg è veramente brutto Poi c'è delle occhiaie che sembra che non dico cosa ha fatto Perché Do Notti e notti in sogni Trova lo stivaletto di Gucci Dai ci sarà Oddio per un attimo Ho letto una cosa strana Figa così Sono molto più tamarro La roba che io ho fatto Figa Beppe veramente Mi capitano sempre persone così in squadra Poi ci stanno assaltando Il problema è che sto guardando più la tua live che il gioco E mi fottono dopo così Perché le abbiamo attaccate che siamo 130 in meno Vabbè proviamoci dai Dio basso Il piano di restare a distanza E spensare il nemico di frecce Ancora Ti ha un po' di fantasia però A mangerà una foglia prima o poi questi Aia un albero porco Perché io guardo le cose Perché te guardi le cose Perché tua madre ti ha fatto con gli occhi Se non le guardavi era un problema Cioè Nel senso che se c'hai gli occhi E non guardi le cose Quello è il problema No ho capito che cosa intendi E noi lo spiegavamo anche per la chat Perché dopo pensano che sono una persona che parla solo male Avete intenzione di venire a darmi la mano Oh no Cioè sto uccidendo tutti io Cioè sto uccidendo tutti io Madonna quanta gente sto uccidendo No no ma tu non hai idea Starò già tipo a 10 kill Ups No no ma tu non ho capito Oh no ho 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 Eh, c'è questo che è un bastardo È forte questo qua È tipo un soldato scelto Devo cercare di smaltire gli altri Oh Era un lanciere, figa Dai, dai, dai Che stiamo per vincere Un altro lanciere Eh, sono troppi questi per me però, regà Uff Mi si sta rompe pure lo scudo, regà Ma sono proprio troppi Siamo vincendo Se vinciamo a me non succede niente Cioè è come se mi prendono e mi curano Ok abbiamo vinto Per fortuna non potevo buttare via una partita Una battaglia del genere, figa Porco due, ho fatto non so quante uccisioni Christoddio Non so se erano punti o cose No, 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 non c'entrano quelli Ok No, perché non l'avevo letto bene Proprio quasi niente Capienza superata Ma non mi interessa Perché tanto io muovendo tutta la città Spiglio tutto io Che deve fare? Andando nelle secrete No, abbiamo Probabilmente abbiamo catturato Delle persone E devo Ah vai a fare il torturatore Bravo Tutti incarcerati Con uno devo parlare Mi deve raccontare la storia della grande guerra Devo parlare con dieci nobili che l'hanno fatta E ho parlato con sei tipo Una roba del genere La prima missione che ti danno Ma è la più lunga Ora dimmi quello che sai O ti faccio mordere Mi chiamo Come non ti è noto il mio nome Figlio di una puttana È a posto Vedi Io vado giù Parlo Mi racconta la storia Allora Ok è a posto Grazie Indilissimo Ora devo vendere una marea di roba Adesso C'è una cifra di soldi Adesso Grazie Grazie. Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa l'abbonamento a pagamento Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa l'abbonamento a pagamento Steeeee Steeeee Che cazzo sono i cavallo I cavalli mi servono Ok Ora vediamo se c'è qualche esercito Qua in fondo Però Quasi quasi andrei da loro adesso I quali lì Ho combattuto una cifra E adesso pigliano solo gli schiaffi Cioè capito ma devi fare il giro della mappa No ma ci impieghi due secondi Perché loro tanto vengono su di qua per combattere Guarda Ah che cazzo Da quanto è questo esercito qua non lo so Ma la mappa La terra è tipo una similitudine di quella reale O è proprio una creazione Ma quanti soldati Oh ma mi sono rimasti pochissimi soldati Cattina la battaglia appena fatta E intanto andiamo E questo è in sette? Sì infatti faccio Faccio così adesso un attimo Ci mettiamo qua dentro Sì Andiamo qua Compro un po' di uomini adesso Mo vedi questa la conquistiamo tutto Capito ma che truppe di merda Attendi qui per un po' Aspettiamo che la mia vita arrivi Almeno Almeno Allora abilità Dove cazzo è quello della vita? Medicina Intendente Se 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 Prova a vedere su un'altra città Se C'hanno dei Combattenti miliari Vediamo Questa cittadina è di merda Vediamo no più che altro perché poi quando vai in giro se tipo sei in sei e becchi i predoni che sono in venti ti attaccano ti fanno fuori e tu ti devi rifare pure l'esercito e ti fanno pagare ti fanno il riscatto ce li devi pagare porco tu dei predoni io c'è ma cazzo stanno andando da quanto è questo esercito 500 si dai se dovrebbero aggiungere anche questi 85 si 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 iniscono importante che adesso mi salga la vita siamo al 53% 54 almeno un 70% prima di dove vogliono andare al castello là ora che arriviamo vabbè reclutiamo boscaioli qua e tutto il lanciere è pesante eh non puoi ti deve uscire il eh quello che ho ammazzato che ci ho impiegato una cifra eh infatti ci impiega anche lui una cifra a entrare buono arriviamo là che la mia vita è quasi al 100% è quella dei miei soci è più formato anche se non sarà un po' più lento degli altri sicuramente ma fa un sacco male c'è un sacco di vita un sacco di difesa buonanotte pista eh quanti sono 480 contro 613 bella questa ancora di notte non si capisce un cazzo senza che ti conviene guardare ah no ma qua è proprio notte a fondo anch'io non vedo un cazzo non so è live no è live ti dirò ci vede si vede piuttosto bene si dai si vede che notte ha capito un po' scuro si vede a voglia se vedessi come vedo su discord ciao 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 vedi puntini bianchi fortunatamente oh si sono aperti in maniera troppo cattiva questi no che culo avevano una formazione avalanga si il problema è che io si o caro c'è tutti con me se lo prendono guarda metterti in per me del eserci si si scappi dietro oh oh tento passo tiro una mazzettata uno a caso eh muoio io mi sa qua però c'è dove sono tutti i miei uomini c'è vale a ritrovare ma io non ritrovo i miei amici in festa se siamo in 200 la ritrovare qui cinque scappate di casa che dai mi si spacca lo scudo coglione oh oh io ho schivato un colpo senza farlo apposta incredibile sono incredibile oh l'hai visto leggo si hai tagliato proprio la gola sono morto basta non posso più combattere non puoi salire a cavallo si in teoria posso anche raccogliere scudo in terra ma a trovarlo questo buio non lo vedi no ma poi non ho vita non ho scudo non ho vita non ho un cazzo bravo infiorisci sui video ho quello scudo di ferro ma è bello almeno ma poi te lo tiene per caso ma che è anche più bello del tuo ma il mio era più pesante più veloce anche non chiedermi com'è possibile ho fatto di materiale mistico wow dai 7 ne mancano fatele fuori rennicus 10 uccisioni ho fatto ah vedi qua è la seconda fila chi è questo cavallo pesante 14 ne ha fatte soldato esperto della fanteria imperiale 22 madonna c'è da migliorare qua raga c'è fa più kill di me a uno nell'altro esercito avevo visto 28 ne ha uccisi dei vostri fanno pure i fenomeni e anche qua ne ha dei pedati di quelle clamorose ma comunque ha una grafica della madonna si è non so di chi hanno uscito ma dai è una buona è appena uscito c'è uscito quando quanto sarà deve sta per uscire adesso per playstation tipo una roba del genere che non so come faranno farlo andare su playstation oddio c'è molti giochi usano praticamente il touchpad della play quello come fosse per il mouse però è scomodissimo oddio questo è proprio brutto l'han fatto sembra posseduto guarda come ti guardi eh ma quando tu fai il personaggio iniziale hai per esempio il mio cioè puoi cambiare tutto no no non puoi andare troppo lo fai no 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 io lo abbandono l'esercito col cazzo che faccio un altro assalto ragazzi siete matti in culo siete ho 12 di vita un soffio di vento sono morto ecco ma guarda lo sapevo io predoni hai trovato subito 12 contro loro in quanti sono in 70 80 ma cioè qui siamo fuggiti mi provo di solo pensare se lo avessimo attualmente combattere e morire piuttosto che essere sbatto il fortunato è sopravvissuto e va adesso è un altro gruppo da 69 ma che bravi ve la prendete tutti con quando è troppo tardi per parlare non posso non può finire così dov'è carica non posso perdere l'esercito troppo i soldi ti promettano eh non dovevi farlo allora questa guerra no la guerra la guerra qua ancora ancora ci stavo non devo andarmene cioè dovrei star con l'esercito piuttosto ho capito no ma secondo me a me ogni caso ti conviene prima reclutare già quando avevi iniziato prima avevi più persone tra le tue file adesso comunque il tuo gruppo è basta sono 16 persone in ogni caso ne perdi un 2 metti 3 ogni volta ti ritrovi sempre che hai poca gente con questo dovrei parlare anche non capisco questo poi il 600 cosa vuole fare neanch'io non siamo in una bella posizione vedi che poi comunque non è cioè non è è randomico il gioco non è che poi rifanno la stessa vabbè qua le invio le truppe gruppo di rennicus quattro uccisione è la troia di mi dissocio è quella ma chi si perlomeno si che ti ha ucciso che ti ha ucciso adesso eh e mo ma che bello come la mettiamo che bello quando si ribalta la situazione così no no non faccio non turno ma chi DiCaprio poi dove l'hai visto un DiCaprio fra tutti i personaggi uno più brutto dell'altro veramente e vanno al castello vogliono andare oddio questi qua sono sono un branco di pazzi questo lo butti ne avevamo fatto pena poverino anche se mi sa che devi cancellarlo il commento Emanuele no Manuele cancella il commento cancella il commento però io la faccio è la mente è inciso cancella no però scusatemi adesso lascialo perché comunque il commento è inerente a quello che stiamo facendo cioè i tempi erano così parliamoci chiaramente era da schiavizzare ah se lei non si sottometteva tanto l'avresti uccisa all'epoca relativamente quindi è brutto a dire perché ai tempi moderni è proprio politicamente scorretto ah ok è l'una di notte io voglio andare a dormire dalle 6 che sono sveglio quanto hai dormito sì mi sono addormentato alle 5 e mezza col gatto sopra mi sono svegliato alle 9 quindi 4 ore no forse era top alle 6 non mi ricordo ma sto quanto sia 600 contro 200 ma non lo faccio sono due giorni che mi ho svegliato il gatto mi è tutta il gatto va bene perché dopo non ho sonno per andare a dormire adesso esattivamente eccolo polco 2 guarda che bello che è questo era il lanciere si hai potuto prendere si eh lui tipo dovresti stargli sempre vicino ma Danica è nelle tue truppe si non ho capito visto visto la schiavizzata alla fine dei conti la schiavizzata non andai giù a parlare con eh ma non è proprio il fattore della fascia protetta è proprio zucchina che a volte è una zucchina mi dissocio eh sto giocando a questo gioco qua tu rimani mi hai intrippato di maledetto anche comunque continua a fa guerra e vedi che sto facendo la missione con la più difficile perché tu dovresti attraversare tutto hai catturato il gran principe cazzi su è il gran principe di sta ceppo figliacco si è finito nelle mie grinfie missione quanti me ne mancano solo due c'è 1573 giorni ancora per completare per farti capire quanto è lunga sta cazzo di missione ma giorni del gioco intende si si ah beh ok mi sono scimmato malissimo ma malissimo non male si ma 388 sono troppo pochi 400 già iniziamo 12 in più cosa vuole fare perché sta vagando così senza una meta sfonda sti 104 e via dai su sì mica li piglia oh per me inviare tu sì è vinta questa dovresti avere neanche tante perdite sì ma devo andare a vendere io abbandono un attimo l'esercito perché c'è troppa roba addosso non dove stai andando porco 2 stavano andando su 73 uomini con 16 si sai quanto costerà la roba che c'è addosso di quello non ti dico no ma lui lascia così e non lo svestire no 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 sto no i cavalli no i cavalli no i cavalli dammi il mio cavallo ok così ah non so tu fai 365 giorni Renzo ah Rena dai basta facciamo l'ultima battaglia che la giochiamo poi basta anche questa brucia gli occhi ok forse non era quella che hai ucciso prima che questa si chiama nello stesso modo ed è fatta molto uguale no 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 ancora una mia è sempre lei ah ok ci ho parlato un attimo sì 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 hai capito lei si è messa di fianco il testo da 90 e quell'altro sì eh furbona oh questa è una battaglia porco 2 questo è un assalto coi contro coglioni 986 contro 706 così finiamo la serata sabato festeggiamo va bene tra l'altro io non vado più alla alla cosa alla cosa cosa alla cosa lì la come cazzo si chiama dai alla Games Week? no ma che Games Week che cazzone ah ok no mi stavo preoccupando perché dicevo il porco diavolo all'Octoberfest vabbè tanto c'è anche l'anno prossimo quello c'è tutti gli anni salti un anno ma puoi fare nel senso non capisco che cosa sta aspettando ad assaltare ma sta perdendo il truppo no cosa sì stanno andando giù le truppe sì ma non sta assediando sta facendo tipo una cosa vedi di ah una battaglia virtuale tipo sì che non ha senso cioè devi assaltarlo cioè abbiamo fatto pace ma non ci credo raga gli hanno ammazzato solo player in paz una paghiacciata questo vabbè te ci hai guadagnato 4 sì no 2 2 ma già si è ritornato almeno a 20 20 già inizia a fare per i numeri che ho visto già in mappa no ma guarda cioè volendo potrei andare benissimo a come si dice cioè potrei comprarmeli ma poi costa mantenerli hai capito non c'ho voglia sì sì è quello disertori sono tipo 20 vare a sti 4 come stanno scappando da tutti i team possibili immaginabili eh ma questi perché sono barbari devo comprare sta roba qua 281.000 miglia non so neanche quanti zeriani ma vuoi prenderla la barda spaziale hanno messo tra le armi più oppi per lo meno un'alabarda nel senso l'hanno messa o no un'alabarda non importa che sia quella spaziale non importa che sia quella spaziale però forse che è un'alabarda ma poverina che ore sono? luna basta le nostre battaglie cioè guarda che guarda l'impero quanto è cresciuto con il nostro sostegno queste città mica le avevamo eh l'XB mi so che ne avete perso alcune però eh no 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 non eravamo in guerra con nessuno noi qua è impossibile no no perché guarda se poi apri ah ok ecco ecco eh no 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 questi sono tipo le famiglie che sono tutte sotto un unico regno capito? yes yes allora io dovrei andare a parlare oh Renone grazie di tutto ti lascio sì no sta con chi io sono cotto che vado a mangiarmi qualcosa prima di andare a dormire bella bella Alexa spegni Nanolif buonanotte Cesar grazie mille per la compagnia ciao animal ok no non c'è il fuoco amico qua ciao Renà buonanotte a tutti ragazzi grazie mille che è rimasto